Capitolo terzo. Il denaro, ossia la circolazione delle merci. 1. Misura dei valori. In questo scritto presuppongo sempre, per semplificazione, che l'oro sia la merce denaro. La prima funzione dell'oro sta nel fornire al mondo delle merci il materiale della sua espressione di valore, cioè nell'indicare i valori delle merci come grandezze della stessa denominazione, uguali per qualità e paragonabili per quantità. In tal maniera, esso funziona come misura generale dei valori, e solo per questa funzione l'oro, merce equivalente specifica, diviene soprattutto denaro. Le merci non divengono commensurabili per mezzo del denaro. Al contrario, essendo tutte le merci in quanto valori lavoro umano oggettivato, esse sono commensurabili tra di loro, possono fare di una stessa merce specifica la misura dei loro valori in comune, e così possono modificarla nella loro comune misura di valore, cioè in denaro. Il denaro, in quanto misura di valore, è la forma fenomenica necessaria della immanente misura di valore delle merci, del tempo di lavoro. Il problema, perché il denaro non stia ad indicare direttamente il tempo di lavoro stesso, in maniera che ad esempio un pezzo di carta indichi X ore di lavoro, si riduce in maniera molto semplice al problema del perché i prodotti del lavoro sulla base della produzione di merci, si debbano rappresentare come merci, visto che la rappresentazione della merce comporta il suo raddoppiamento in merce e merce-denaro. Cioè perché il lavoro privato non possa essere considerato come lavoro direttamente sociale, ossia come il proprio opposto. In altro luogo, ho indagato a lungo il facile utopismo di un denaro-lavoro sulla base della produzione di merci. Qui mettiamo ancora in rilievo che il denaro-lavoro, per esempio di Owen, è denaro così poco come è denaro, per esempio, un biglietto di teatro. Owen presuppone un lavoro direttamente socializzato, ossia una forma di produzione completamente opposta alla produzione di merci. Il certificato di lavoro constata solo la individuale partecipazione del produttore al lavoro comune e il suo individuale diritto alla parte del prodotto comune da consumarsi. Ma Owen non pensa per niente di presupporre la produzione delle merci e di volere nello stesso tempo sfuggire le condizioni inevitabili di essa con sconciature monetarie. L'espressione di valore di una merce in oro, x merce-a uguale y merce-denaro, è la sua forma di denaro, cioè il suo prezzo. Quindi un'equazione staccata, come una tonnellata di ferro uguale due once d'oro, basta per indicare il valore del ferro in maniera socialmente valida. Non occorre più ormai mettere queste equazioni in fila con le equazioni di valore delle altre merci, dato che la merce equivalente, l'oro, ha già carattere di denaro. Perciò la forma generale relativa delle merci ha di nuovo adesso la figura della sua primitiva forma relativa di valore, semplice o singola. D'altro lato, l'espressione relativa sviluppata di valore, cioè la infinita serie di espressioni relative di valore, diviene forma di valore specificatamente relativa della merce-denaro. Ma tale serie è adesso già determinata socialmente nei prezzi delle merci. Se leggiamo al contrario le quotazioni di un corrente listino di prezzi, avremo la grandezza di valore del denaro, indicati in tutte le merci possibili. Invece il denaro non ha prezzo. Il denaro, per essere partecipe di questa forma di valore relativa unitaria delle altre merci, dovrebbe venire riferito a se stesso come proprio equivalente. Il prezzo, cioè la forma di denaro delle merci, è, al pari della loro forma di valore in generale, una forma distinta dalla loro forma corporea sensibilmente concreta. Perciò è soltanto forma ideale, cioè immaginata. Il valore del ferro, della tela, del grano, eccetera, seppur non si vede, esiste in queste stesse cose. Esso è rappresentato tramite la loro uguaglianza con l'oro, la loro relazione con l'oro, che possiamo dire esiste idealmente solo nelle teste delle merci. Perciò il custode delle merci deve mettere la sua lingua delle merci, deve cioè appiccicarvi etichette per manifestare i loro prezzi al mondo esterno. Il selvaggio, o il mezzo selvaggio, usa altrimenti la lingua. Il capitano Perry, William E. Perry, 1790-1855, osserva, per esempio, parlando degli abitanti della costa occidentale della Baia di Baffin, in questo caso, lo scambio dei prodotti, essi leccavano ciò che era loro dato per due volte, e dopo di questo pareva ritenessero l'affare portato a termine in maniera soddisfacente. Ed anche presso gli eschimesi il permutante leccava l'articolo ogni volta che lo prendeva. Se perciò la lingua vale nel nord come organo d'approvazione, non ci dobbiamo meravigliare che nel sud il ventre valga come organo della proprietà accumulata, e che gli ignoranti valutino la ricchezza di un uomo dal grasso della pancia. Costoro sono persone molto giudiziose, perché mentre il rapporto ufficiale inglese del 1864 sull'igiene lamenta che una grande parte della classe operaia non ha sostanze adipogene, un tale dottor Harvey, che non ha certo scoperto la circolazione del sangue, fece la sua fortuna proprio quell'anno con ricette piene di charle, che promettevano alla borghesia e all'aristocrazia di liberarle dal peso del grasso superfluo. Essendo ideale l'indicazione dei valori delle merci in oro, per far ciò si può usare anche soltanto oro immaginario, ossia ideale. Ogni custode di merci, quando dà al lavoro valore la forma di prezzo o la forma immaginativa dell'oro, sa che ci manca ancora molto dall'averle riempite d'oro, e che non ha bisogno neanche di un'oncia di oro reale per valutare in oro milioni di valori di merci. Perciò il denaro, nella sua funzione di misura del valore, serve come denaro meramente immaginato, cioè ideale. Questa circostanza ha dato adito alle teorie più strambe. Vedi Karl Marx per la critica eccetera. Teoria dell'unità di misura del denaro, pagina 53. Sebbene solo il denaro immaginato adempia la funzione di misura del valore, il prezzo dipende totalmente dal reale materiale del denaro. Il valore, ossia la quantità di lavoro umano che è racchiusa per esempio in una tonnellata di ferro, viene espresso in una quantità immaginata della merce denaro, che racchiude altrettanto lavoro. A seconda che quindi vengano presi come misura di valore l'oro, l'argento o il rame, il valore della tonnellata di ferro può avere espressioni di prezzo del tutto diverse, oppure esso viene rappresentato in quantità del tutto diverse d'oro, d'argento o di rame. Ma se due merci diverse, per esempio oro e argento, fungono contemporaneamente da misura di valore, tutte le merci hanno espressioni di prezzo diverse e di due tipi, prezzi in oro e prezzi in argento, che camminano tranquillamente gli uni vicini agli altri, finché resta immutato il rapporto di valore dell'argento con l'oro, per esempio, uguale 1 a 15. Ogni variazione però di tale rapporto di valore modifica il rapporto tra i prezzi in oro e i prezzi in argento delle merci, e dimostra così in effetti che il raddoppiamento della misura di valore contraddice alla sua funzione. Nota alla seconda edizione, ovunque l'oro e l'argento esistono legalmente l'uno vicino all'altro come denaro, ossia come misura di valore, si è sempre cercato inutilmente di considerarli come un'unica e medesima materia. Presupponendo che lo stesso tempo di lavoro si deve oggettivare invariabilmente nella stessa produzione di oro e argento, in effetti presupponiamo che argento e oro sono la stessa materia e che una data massa del metallo meno pregiato, dell'argento, costituisce la immutabile frazione di una data massa d'oro. Dal regno di Edoardo III fino al tempo di Giorgio II, dal 1327 al 1760, la storia del denaro in Inghilterra avanza per una serie ininterrotta di perturbazioni provenienti dalla collisione tra la stabilità legale del rapporto di valore tra oro e argento e le loro reali oscillazioni di valore. Una volta si stimava troppo l'oro, un'altra si stimava troppo l'argento. Il metallo stimato troppo poco veniva allevato dalla circolazione, rifuso ed esportato. Allora si tornava a cambiare il rapporto di valore di tutti e due i metalli con una legge, ma il nuovo valore nominale, a sua volta, entrava subito nello stesso conflitto che aveva avuto il precedente con il rapporto reale di valore. Nella nostra stessa epoca, il debole e temporaneo ribasso del valore dell'oro rispetto a quello dell'argento, in seguito alla richiesta indocinese di argento, ha fatto verificare in Francia in grandissima scala lo stesso fenomeno. Esportazione d'argento e sua eliminazione dalla circolazione da parte dell'oro. Negli anni 1855, 1856, 1857, l'eccedenza dell'importazione sull'esportazione dell'oro in Francia arrivò a 41.580.000 lire sterline, mentre l'eccedenza dell'esportazione sull'importazione d'argento è arrivata a 14.704.000 lire sterline. Infatti, nei paesi dove ambedue i metalli sono misura legale di valore e perciò si ha l'obbligo di accettarli ambedue in pagamento, ma ognuno può pagare come vuole in oro o in argento, il metallo che aumenta di valore porta un aggio e misura il proprio prezzo, come ogni altra merce, nel metallo sopravvalutato, mentre solo quest'ultimo funge da misura di valore. Tutta l'esperienza storica a tale proposito si riduce semplicemente al fatto che, dove due merci hanno per legge la funzione di misura di valore, in effetti sempre una sola delle due continua a tenere questa posizione. Karl Marx per la critica, eccetera. Pagine 52-53. Le merci determinate nel prezzo si presentano tutte nella forma A merce A uguale X oro, B merce B uguale Z oro, C merce C uguale Y oro, eccetera, dove A, B e C rappresentano masse determinate dei generi di merci A, B, C e X, Y, Z determinate masse d'oro. Perciò si possono trasformare i valori delle merci in quantità immaginate d'oro di diversa grandezza e quindi si possono trasformare, malgrado la colorita confusione dei corpi delle merci, in grandezze di ugual nome, in grandezze auree. Ed esse si rapportano e si misurano tra loro come quantità d'oro diverse e così si sviluppa tecnicamente la necessità di riferirla a una quantità fissa d'oro, come a loro unità di misura. Questa stessa unità di misura viene ancora più sviluppata a scala tramite la sua suddivisione in parti aliquote. Oro, argento, rame, già prima, che divengano denaro, posseggono tali scale nei loro pesi di metallo, in maniera che, per esempio, una libra funge da unità di misura e da un lato viene suddivisa in once, eccetera, dall'altro viene sommata in quintali, eccetera. Nota la seconda edizione, il caso particolare dell'oncia d'oro in Inghilterra, che è l'unità della scala del denaro, ma non è suddivisa in parti aliquote, trova spiegazioni in questo. La nostra monetazione si adattava all'inizio soltanto all'impiego dell'argento, perciò un oncia d'argento può dividersi sempre in un dato numero corrispondente di pezzi di denaro. Ma essendo stato l'oro introdotto solo in epoca posteriore, in una monetazione adattata solo all'argento, un oncia d'oro non può essere coniata in un corrispondente numero di monete. McLaren, History of the Currency, Storie della circolazione monetaria, Londra, 1858, pagina 2016. Perciò in ogni circolazione metallica i nomi preesistenti delle scale dei pesi formano anche i nomi originari della scala del denaro o della scala dei prezzi. Il denaro, quale misura dei valori e quale scala dei prezzi, compie due funzioni totalmente diverse. È misura dei valori, come incarnazione sociale del lavoro umano, ed è scala dei prezzi, come peso determinato di un metallo. Come misure di valore serve a trasformare i valori delle varie e colorite merci in prezzi in quantità immaginate d'oro. Come scala dei prezzi, esso misura quelle quantità d'oro. Sulla misura dei valori si misurano le merci come valori, invece la scala dei prezzi misura quantità d'oro su quantità d'oro, non il valore di una quantità d'oro sul peso delle altre. Per la scala dei prezzi è necessario stabilire un dato peso d'oro come unità di misura. Qui, come in tutte le altre determinazioni di misura di grandezze di ugual nome, la stabilità dei rapporti di misura è determinante. La scala dei prezzi, quindi, compie la sua funzione tanto meglio quanto più immutabile un'unica medesima quantità d'oro funge da unità di misura. Si può prendere l'oro come misura dei valori solo perché anche esso è prodotto di lavoro, perciò potenzialmente è un valore che può variare. Nota la seconda edizione. Negli scritti inglesi c'è un'inimmaginabile confusione tra misura dei valori, measure of value, e scala dei prezzi, standard of value. Le funzioni, e di conseguenza i loro nomi, sono scambiati in continuazione. È chiaro soprattutto che un mutamento di valore dell'oro non altera assolutamente la sua funzione di scala dei prezzi. Comunque muti il valore dell'oro, quantità diverse di oro restano sempre nel medesimo rapporto di valore reciproco. Se il valore dell'oro calasse del 1000%, 12 once d'oro avrebbero sempre, prima o dopo, un valore 12 volte più grande di un once d'oro. E nei prezzi si tratta solo del reciproco rapporto di quantità diverse di oro. Dato che, d'altra parte, un once d'oro non muta per niente il suo peso con la caduta o con il rialzo del suo valore, come sarà detto appresso, il valore dell'oro è determinato, al pari di quello delle altre merci, dalla quantità del lavoro corso alla sua produzione, non cambia neanche il peso delle sue aliquote. E così l'oro, quale scala fissa dei prezzi, rende sempre lo stesso servigio, qualunque siano le modificazioni del suo valore. La modificazione del valore dell'oro non intacca neanche la sua funzione di misura di valore. Essa si riversa allo stesso tempo su tutte le merci, perciò Caeteris Paribus lascia immutati i loro valori relativi reciproci, seppure adesso essi siano indicati tutti in prezzi aurei più alti o più bassi di prima. Come avviene nella rappresentazione del valore di una merce in valore d'uso di una qualunque altra merce, anche nella valutazione in oro delle merci si suppone solo che in un certo periodo la produzione di una quantità d'oro costi una determinata quantità di lavoro. Rispetto al movimento dei prezzi delle merci in genere, valgono le leggi dell'espressione relativa semplice di valore che abbiamo sviluppato prima. Un rialzo generale dei prezzi delle merci può avvenire solo quando, rimanendo uguale il valore del denaro, aumentano i valori delle merci, quando, rimanendo uguale i valori delle merci, cala il valore del denaro e viceversa. Può verificarsi un abbassamento generale dei prezzi delle merci, rimanendo uguale il valore del denaro, qualora cadono i valori delle merci. Rimanendo uguale i valori delle merci, qualora aumenti il valore del denaro. Ma da questo non deriva per niente che il rialzo del valore del denaro comporti una caduta proporzionale dei prezzi delle merci e che la caduta del valore del denaro porti con sé un proporzionale rialzo dei prezzi delle merci. Questo conta soltanto per merci di valore immutato, per esempio conservano gli stessi prezzi le merci il cui valore aumenti contemporaneamente e proporzionalmente con il valore del denaro. Se il loro valore aumenta più lentamente o più rapidamente del valore del denaro, il calo o il rialzo dei loro prezzi è determinato dalla differenza tra il movimento del loro valore e quello del denaro, eccetera. Esaminiamo ora di nuovo la forma di prezzo. I nomi di moneta dei pesi metallici si distinguono via via dai loro originari nomi di peso per diversi motivi, tra cui sono storicamente fondamentali. 1. L'immissione di denaro straniero presso popoli meno sviluppati, come per esempio nell'antica Roma le monete d'argento ed oro erano in circolazione all'inizio come merci straniere. I nomi di questo denaro straniero sono diversi dai nomi di peso indigeni. 2. Con lo sviluppo della ricchezza il metallo meno pregiato viene sostituito dal più pregiato nella funzione di misura di valore. Il rame dall'argento, l'argento dall'oro. Sebbene questo alternarsi può essere in contrasto con ogni poetica cronologica. Questo, d'altra parte, non ha neanche una validità storica generale. La letteratura latina ci ha tramandato la concezione che gli antichi avevano di un progressivo decadere dell'umanità dalla primitiva e felice età dell'oro all'età dell'argento, del bronzo e del ferro. Per esempio, libra era il nome di moneta di una vera libra d'argento. Quando l'oro sostituisce l'argento come misura di valore, lo stesso nome si accoppia forse a un quindicesimo, eccetera, di libra d'oro, secondo il rapporto di valore tra oro e argento. Adesso libra, come nome di moneta e come normale nome di peso dell'oro, sono separati. Nota la seconda edizione. Così la lira sterlina inglese indica meno di un terzo del suo peso originario. La lira sterlina scozzese prima dell'unione, l'unione tra Inghilterra e Scozia data ufficialmente all'1.5.1707. Soltanto un trentaseiesimo. La livre francese un settantaquattresimo. Il Marvedi spagnolo meno di un millesimo. Il race portoghese una proporzione ancora molto più piccola. 3. L'adulterazione della moneta fatta dai principi, andata avanti centinaia di anni, ci ha lasciato in effetti soltanto il nome del peso originario del denaro moneta. Nota la seconda edizione. Le monete il cui movimento è solo oggi ideale, sono le più antiche di tutte le nazioni. Tutte furono in un certo tempo di natura reale. Quest'ultima affermazione non è del tutto giusta. Marx, edizione francese. E proprio perché erano di natura reale, esse servivano come monete di conto. Galliani, della moneta, pagina 153. Nelle prime edizioni tedesche del Capitale, le ultime due note sono scambiate. Questi processi storici rendono la separazione del nome di moneta dei pesi metallici dai loro normali nomi di pesi un'abitudine popolare, già che da un lato la scala del denaro è meramente convenzionale e da altro lato le occorre una validità universale. Infine essa viene regolata per legge. Una data parte di peso del metallo pregiato, per esempio un oncia d'oro, viene ufficialmente suddivisa in parti aliquote che ricevono nomi di battesimo legali come libra, tallero, eccetera. Tale parte aliquota, che conta in seguito come effettiva unità di misura del denaro, viene suddivisa in altre parti aliquote con nomi di battesimo legali come scellino, penny, eccetera. Nota la seconda edizione, il signor David Urquhart nei suoi familiar words, parole familiari, a proposito del fatto mostruoso che oggi una libra, libra sterlina, l'unità della scala inglese del denaro è pressa poco uguale a un quarto doncia d'oro, mette in rilievo che questa è falsificazione di una misura e non fissazione di una scala. Egli rinviene in questa falsa denominazione del peso aureo, come in tutto il resto la mano falsificatrice della civilizzazione. Determinati pesi di metallo restano, sia prima che dopo, scala del denaro metallico. Quella che è cambiata è la ripartizione e la nomenclatura. I prezzi, o quantità d'oro, in cui si sono idealmente trasformati i valori delle merci, sono quindi indicati ora nei nomi di moneta, ossia nei nomi di conto della scala oro validi legalmente. Perciò invece di dire che il quarter di grano è uguale a un'oncia d'oro, in Inghilterra si dirà che esso equivale a tre lire sterline, diciassette scellini e dieci pense e mezzo. Così le merci indicano il loro valore con i loro nomi di denaro, e il denaro funge da moneta di conto ogni volta che si deve fissare una cosa come valore e di conseguenza in forma di denaro. Nota la seconda edizione. Anacarsi, quando gli chiesero a quale scopo gli atteniesi si servissero del denaro, rispose per contare. Atenaios, Ateneo di Naocrate in Egitto, secondo terzo secolo d.C., l'opera citata in quindici libri è il rifacimento di una precedente stesura in trenta libri. Deip no sophistai, i dotti a banchetto, libro quarto, 49, volume secondo, edizione Schweigauser, 1802. Il nome di una cosa è per sua natura affatto esteriore. Se so che un uomo si chiama Jacopo, io non so nulla dell'uomo. Ugualmente nei nomi di denaro, lira, sterlina, tallero, franco, ducato, ecc., sparisce ogni segno del rapporto di valore. La confusione riguardo al significato misterioso di questi segni cabalistici è perciò più grande, per il motivo che i nomi di denaro esprimono insieme il valore delle merci e anche parti aliquote ed un peso di metallo, della scala del denaro. Nota la seconda edizione, giacché l'oro, come scala dei prezzi, appare con gli stessi nomi di conto dei prezzi delle merci, e quindi per esempio un'oncia d'oro espressa con tre sterline e 17 scellini e 10 pense e mezzo, alla stessa maniera del valore di una tonnellata di ferro, questi suoi nomi di conto sono stati chiamati prezzo di zecca. D'onde è sorta la strana opinione che l'oro o l'argento sia valutato nella sua propria materia e che riceva un prezzo fisso di stato, contrariamente a tutte le altre merci? La fissazione dei nomi di conto di dati pesi d'oro è stata fraintesa per fissazione del valore di questi pesi, Karl Marx, per la critica, eccetera, pagina 52. D'altra parte occorre che il valore si sviluppi, a differenza dei vari opinti corpi del mondo delle merci, fino a ottenere tale forma non concettuale e di cosa, ma anche una semplice forma sociale. Si confronti teorie dell'unità di misura del denaro, in Per la critica dell'economia politica, pagina 53. Le fantasie sul rialzo e sul calo del prezzo di zecca, che si riducono nel dare da parte dello Stato i nomi legali del denaro per parti di peso d'oro o d'argento, legalmente fissate a parti di peso maggiori o minori, e perciò, per esempio, nel coniare dall'ora in poi anche un quarto doncia d'oro in 40 invece che in 20 scellini. Queste fantasie, quando non sono maldestro operazioni finanziarie contro creditori dello Stato o di privati, ma hanno lo scopo di miracolose cure economiche, sono state esaminate dal Petty, nel suo Brevi considerazioni sul denaro, al Lord Marchese di Halifax, 1682, e in maniera così completa che già i suoi diretti successori, Sir Dudley North, 1632-1692, economista e mercante inglese di tradizioni conservatrici, in economia risentì dell'influenza di Locke. La sua opera più importante è Discorsi sul commercio in special modo sull'interesse, la monetazione, la tosatura e l'aumento del denaro, 1691. E John Locke, tralasciando tutti quelli che li seguirono, poterono soltanto renderla banale. Tra l'altro egli afferma, se la ricchezza di una nazione potesse essere moltiplicata dieci volte con un decreto, ci si meraviglierebbe che tali decreti non siano stati emessi dai nostri governi già da tempo. Opera citata, pagina 36. Il prezzo è il nome di denaro del lavoro oggettivato nella merce. L'equivalenza della merce e della quantità di denaro il cui nome costituisce il prezzo è perciò una tautologia. O si deve ammettere che un milione di denaro vale di più che un ugual valore di merci. Le trosne dell'interesse social, pagina 922. Ossia che un valore sia maggiore di un altro ugual valore. Allo stesso modo che generalmente l'espressione relativa di valore di una merce è sempre l'espressione dell'equivalenza di due merci. Se però il prezzo, in quanto esponente della grandezza di valore della merce, è esponente del suo rapporto di scambio col denaro, non ne deriva il contrario, che l'esponente del suo rapporto di scambio col denaro sia necessariamente l'esponente della sua grandezza di valore. Rappresentiamo un lavoro socialmente necessario di uguale grandezza in un quarter di grano e in due lire sterline, mezza oncia d'oro circa. Le due lire sterline sono espressioni in denaro della grandezza di valore del quarter di grano, cioè sono il suo prezzo. Se adesso una mutata situazione permette di valutarlo tre lire sterline, o impone di valutarlo una lira sterlina, allora una lira sterlina e tre lire sterline sono, come espressioni della grandezza di valore del grano, troppo piccole o troppo grandi, ma esse sono sempre prezzi di esso, giacché sono innanzitutto la sua forma di valore, denaro, e poi sono esponenti del suo rapporto di scambio col denaro. Qualora rimangano costanti le condizioni di produzione, cioè qualora rimanga costante la forza produttiva del lavoro, sia prima che dopo si deve impiegare la medesima quantità di tempo sociale di lavoro per riprodurre un quarter di grano. Queste condizioni non dipendono dalla volontà né del produttore del grano né degli altri possessori di merci. La grandezza di valore della merce sta a indicare quindi un rapporto necessario, immanente al suo processo di formazione, con il tempo sociale di lavoro. Tale rapporto necessario, trasformandosi la grandezza di valore in prezzo, appare come rapporto di scambio di una merce con la merce denaro che esiste fuori di essa, ma in questo rapporto si possono esprimere sia la grandezza di valore della merce, sia il più o il meno in cui essa può alienarsi in certe occasioni. La possibilità di una incongruenza quantitativa tra prezzo e grandezza di valore, che cioè il prezzo sia diverso dalla grandezza di valore, risiede quindi nella stessa forma di prezzo. E questo non è un difetto di tale forma, anzi ne fa al contrario la forma adeguata di un modo di produzione in cui si può imporre la regola solo come legge media della sregolatezza, che agisce ciecamente. Malgrado ciò, la forma di prezzo non ammette solo la possibilità di una incongruenza quantitativa tra grandezza di valore e prezzo, ossia tra la grandezza di valore e la sua propria espressione di denaro, ma può contenere una contraddizione qualitativa, in maniera che il prezzo non sia più in genere espressione di valore, sebbene il denaro sia solamente la forma di valore delle merci. Cose che in se stesse non sono merci, per esempio coscienza, onore, eccetera, possono essere ritenute dai loro possessori vendibili per denaro e ricevere così la forma di merce tramite il prezzo che si stabilisce per loro. Perciò una cosa può avere formalmente un prezzo, pur non avendo un valore. In tal caso l'espressione di prezzo, come alcune grandezze della matematica, diviene immaginaria. Del resto anche la forma immaginaria di prezzo, come per esempio il prezzo della terra non coltivata che non ha nessun valore, già che in essa non è oggettivato lavoro umano. Può nascondere un reale rapporto di valore o una relazione conseguente tale rapporto. Il prezzo, come la forma relativa di valore in genere, sta a indicare il valore di una merce, per esempio di una tonnellata di ferro, per il fatto che una data quantità di equivalente, per esempio un'oncia d'oro, si può direttamente permutare con ferro, ma in nessun modo per il fatto contrario che il ferro si possa per suo conto permutare direttamente con oro. La merce quindi, per svolgere in pratica l'azione di un valore di scambio, deve sbarazzarsi del suo corpo naturale, modificarsi da oro solo immaginato in oro reale, sebbene questa transustanziazione, termine preso dalla liturgia cattolica, sta a indicare il passaggio nel pane e nel vino del corpo e del sangue di Cristo, evidente parallelo con la trasformazione della merce nel dio oro. Possa esserle più aspra di quanto lo sia per il concetto hegeliano il passaggio dalla necessità alla libertà, o per una ragosta spezzare il proprio guscio o per il padre della chiesa Girolamo lo sbarazzarsi del vecchio Adamo. Mentre in gioventù Girolamo 340-420 dovette lottare grandemente con la carne materiale, come prova la sua battaglia nel deserto con belle immagini di donne, così invecchiai lo dovette con la carne spirituale. Egli narra per esempio, io credetti di essere portato in spirito alla presenza del giudice dell'universo. Chi sei tu? chiese una voce. Sono un cristiano. Tu menti! tuonò il giudice dell'universo. Tu sei solo un ciceroniano. La merce insieme alla sua forma reale, per esempio ferro, può avere nel prezzo forma ideale di valore, cioè forma immaginata d'oro, ma non può essere allo stesso tempo realmente ferro o realmente oro. Perché abbia un prezzo è sufficiente equipararle oro immaginato. La si deve sostituire con oro, perché essa renda al suo possessore il servizio di un equivalente generale. Se il possessore del ferro si presentasse per esempio al possessore di una merce mondana e gli facesse presente il prezzo del ferro che è in forma di denaro, il mondano gli risponderebbe come San Pietro rispose in cielo a Dante, che gli aveva recitato la formula della fede. Assai bene è trascorsa, desta moneta già la lega e il suo peso, ma dimmi se tu l'hai nella tua borsa. In italiano nel testo, Divina Commedia, Paradiso, ventiquattresimo, versetto tutta 385. La forma di prezzo comporta l'alienabilità delle merci contro denaro e la necessità di tale alienazione. Del resto, l'oro funge da misura di valore ideale solamente perché già nel processo di scambio agisce come merce e denaro. Nella misura ideale dei valori sta quindi in agguato la dura moneta. 2. Mezzo di circolazione. A. La metamorfosi delle merci. Abbiamo visto come il processo di scambio delle merci comporti relazioni contraddittorie che si escludono reciprocamente. Lo sviluppo della merce non elimina tali contraddizioni, ma crea la forma in cui esse possono muoversi. Con questo metodo si risolvono generalmente le contraddizioni reali. È per esempio una contraddizione il fatto che un corpo cada costantemente su un altro e ne sfugga via con altrettanta costanza. L'ellisse è una delle forme del movimento nelle quali appare e allo stesso tempo si risolve tale contraddizione. Fintanto che il processo di scambio fa passare merci dalla mano in cui sono valori non d'uso alla mano in cui sono valori d'uso, esso è ricambio organico sociale. Il prodotto di un certo lavoro utile è sostituito dal prodotto di un certo altro lavoro utile. La merce, arrivata al luogo dove serve come valore d'uso, passa dalla sfera dello scambio di merci a quella del consumo. Quella che qui ci interessa è soltanto la prima. Dobbiamo quindi esaminare tutto il processo sotto l'aspetto della forma, ossia solo il mutamento di forma, cioè la metamorfosi delle merci, che ha la funzione di mediatrice nel ricambio organico sociale. Si deve al fatto che ogni metamorfosi di una merce avviene nello scambio tra due merci, una merce normale e la merce denaro. La comprensione del tutto lacunosa di questo mutamento di forma, per non parlare della poca chiarezza a proposito dello stesso concetto di valore. Se rimaniamo solo a questo momento materiale, allo scambio di merce con oro, non si tiene presente che l'oro, come pura e semplice merce, non è denaro e che le altre merci si rapportano nei loro prezzi all'oro come loro propria figura di denaro. In un primo momento le merci compaiono nel processo di scambio non dorate né addolcite, ma così come sono. Il processo di scambio genera un raddoppiamento delle merci in merce e in denaro, una esterna contrapposizione in cui esse indicano la loro contrapposizione immanente di valore d'uso e di valore. In tale contrapposizione, le merci in quanto valori d'uso si oppongono al denaro in quanto valore di scambio. Del resto, ambedue gli estremi della contrapposizione sono merci, perciò unità di valore d'uso e valore. Ma questa unità di cose diverse si presenta in ognuno dei due estremi inversamente all'altro e con questo indica allo stesso tempo anche il loro reciproco rapporto. La merce è realmente valore d'uso. Il suo essere valore compare solo idealmente nel prezzo, che la rapporta all'oro che le sta innanzi come a sua reale figura di valore. Al contrario, il materiale oro conta solo come materializzazione di valore denaro, è perciò realmente valore di scambio. Il suo valore d'uso compare ormai solo idealmente nella serie delle espressioni di valore relativi in cui esso si rapporta alle merci che gli stanno innanzi come all'orbita delle sue reali figure d'uso. Queste opposte forme delle merci sono le reali forme di movimento del loro processo di scambio. Seguiamo adesso un qualunque possessore di merci, per esempio il tessitore di lino, che già ben conosciamo, sul teatro del processo di scambio, il mercato delle merci. La sua merce, venti braccia di tela, è determinata nel prezzo. Essa è di due lire sterline. Egli la permuta con due lire sterline e da uomo di vecchio stampo permuta di nuovo le due lire sterline con una bibbia di famiglia di ugual prezzo. La tela, che per lui è solamente merce, depositare di valore, viene data via in cambio d'oro, che è la sua figura di valore. E questa figura viene data di nuovo via in cambio di un'altra merce, la Bibbia, che però deve andarsene dalla casa del tessitore come oggetto d'uso e soddisfare qui bisogni di elevamento spirituale. Quindi il processo di scambio si effettua in due metamorfosi opposte che si integrano a vicenda. Trasformazione della merce in denaro e ritrasformazione del denaro in merce. Dal fuoco tutto diviene, disse Eraclito. Eraclito, 492-432 avanti Cristo, filosofo d'Efeso, osservatore del perenne divenire delle cose. E il fuoco diviene da tutte le cose, come da l'oro le ricchezze e dalle ricchezze l'oro. F. La Salle, la filosofia di Eraclito l'oscuro. L'intero titolo dell'opera è La filosofia di Eraclito l'oscuro di Efeso, esposta sulla base di una nuova raccolta dei suoi frammenti e delle testimonianze degli antichi. Berlino, 1858, volume 1, pagina 222. La nota della Salle a questo passo, pagina 224, numero 3, spiega erroneamente il denaro come semplice segno di valore. I momenti della metamorfosi delle merci sono allo stesso tempo affari del possessore di merci. Vendita, scambio della merce con denaro, acquisto, scambio del denaro con merce e unità delle due operazioni, vendere per acquistare. Se il tessitore guarda il risultato finale dell'affare, egli possiede così una bibbia al posto della tela, e al posto della sua merce originaria possiede un'altra merce di ugual valore, ma di utilità diversa. Perché in quel momento, per lui, la tela non costituisce un valore d'uso, pur essendo depositare di valore, che si esprime nel prezzo di due lire sterline realizzato nello scambio. L'oro, a cui la tela è rapportata dal prezzo, è la sua figura generale di valore. Se il tessitore guarda il risultato finale dell'affare, nella stessa maniera egli si procura i suoi altri mezzi di sussistenza e di produzione. Dal suo punto di vista, tutto il processo permette solo lo scambio del prodotto del suo lavoro con prodotto di lavoro di altri, lo scambio dei prodotti. Il processo di scambio della merce si effettua quindi nei seguenti mutamenti di forme. Merce, denaro, merce. MDM. Per quanto riguarda il contenuto materiale, il movimento è MM, scambio di merce con merce, ricambio organico del lavoro sociale, nel cui risultato si spegne lo stesso processo. MD, prima metamorfosi della merce, cioè vendita. Il salto del valore della merce dal corpo della merce nel corpo dell'oro è come l'ho già chiamato altrove, il salto mortale della merce, in italiano nel testo. Se non riesce, non va a danno della merce, ma del possessore della merce. La divisione sociale del lavoro fa il suo lavoro tanto unilaterale quanto fa molteplici i suoi bisogni, e proprio per questo usa il suo prodotto soltanto come valore di scambio, ma esso acquista soltanto nel denaro la forma generale di equivalente socialmente valida, e il denaro sta nelle tasche di altri. Per trarvelo fuori, occorre soprattutto che la merce abbia valore d'uso per il possessore di denaro, che perciò il lavoro impiegato per essa sia impiegato in forma socialmente utile, cioè che faccia buona prova come membro della divisione sociale del lavoro. Una merce ha un valore d'uso sociale, e quindi il lavoro che l'ha prodotta è utile alla società quanto essa riesce ad appagare i bisogni degli altri uomini con cui si vive in comunità. Ne deriva perciò una divisione sociale del lavoro, che si sviluppa spontaneamente, senza intenzione da parte dei produttori. Ma la divisione del lavoro è un naturale organismo di produzione, le cui fila si sono tessute e continuano a tessersi all'insaputa dei produttori di merci. Può accadere forse che la merce sia prodotto di una nuova maniera di lavoro, che voglia pagare un bisogno sopravvenuto da poco, o che voglia far nascere per la prima volta un bisogno, di sua iniziativa. Un certo atto lavorativo era una funzione tra le molte funzioni di uno stesso produttore di merci. Oggi forse si stacca da questo assieme, si rende indipendente e proprio per questo manda al mercato il proprio prodotto parziale come merce autonoma. Le circostanze possono essere più o meno mature per questo processo di scissione. Il prodotto oggi soddisfa un bisogno sociale, domani forse sarà buttato via dal suo posto, totalmente o in parte, da un genere simile di prodotto. Seppur il lavoro, come quello del nostro tessitore, è membro patentato della divisione sociale del lavoro, con questo non è ancora garantito il valore d'uso proprio delle sue 20 braccia di tela. Se il bisogno sociale di tela, che come ogni altra cosa ha la sua misura, è già soddisfatto da tessitori concorrenti, il prodotto del nostro amico diventa eccedente, superfluo e quindi inutile. A cavallo donato non si guarda in bocca, ma il tessitore non va al mercato a fare regali. Poniamo invece che il valore d'uso del suo prodotto faccia buona prova e che quindi si ricavi denaro dalla merce. Ora ci domandiamo, quanto denaro? La risposta è in ogni modo anticipata nel prezzo della merce, che indica la sua grandezza di valore. Tralasciamo possibili errori soggettivi di calcolo del possessore di merce, che sono subito corretti oggettivamente al mercato, e abbia egli impiegato nel suo prodotto solo la media socialmente necessaria di tempo di lavoro. Perciò il prezzo della merce è solo nome di denaro della quantità di lavoro sociale oggettivata in essa. Ma senza permesso e all'insaputa del nostro tessitore sono venute a fermento le antiche patentate condizioni di produzione della tessitura. Quello che ieri era, senza ombra di dubbio, tempo di lavoro socialmente necessario alla produzione di un braccio di tela, oggi non è più così, come ci mostra con zelo il possessore di denaro con le quotazioni dei prezzi di diversi concorrenti del nostro amico. Purtroppo per lui esistono molti tessitori sulla terra. Supponiamo infine che ogni pezza di tela disponibile sul mercato racchiuda soltanto tempo di lavoro socialmente necessario. Tuttavia l'intera somma di queste pezze può racchiudere tempo di lavoro impiegato superfluo. Se lo stomaco del mercato non può assorbire tutta la quantità di tela al prezzo comune di due scellini al braccio, questo dimostra che sia impiegata in forma di tessitura una parte troppo grande del tempo complessivo sociale di lavoro. Il risultato è il medesimo che ogni singolo tessitore avesse speso nel suo prodotto individuale più del tempo di lavoro socialmente necessario. Qui sta bene il proverbio presi insieme insieme impiccati. Tutta la tela sul mercato vale solo come un articolo di commercio, ogni pezza vale solo come parte aliquota e in effetti il valore di ogni braccio di tela individuale è solamente la materializzazione della medesima quantità socialmente determinata di lavoro umano in ugual genere. Modificazione dell'ultimo passo. In una lettera a M.F. Danielson del 28 novembre 1878 fatta da Marx, in effetti il valore di ogni singolo braccio di tela è soltanto la materializzazione di una porzione della quantità di lavoro sociale impiegata nell'intera quantità delle braccia. Così la merce ama il denaro, ma il corso del vero amore non è mai tranquillo. L'articolazione quantitativa dell'organismo di produzione sociale, che esprime le sue membra digiecta, sparse membra, nel sistema della divisione del lavoro è tanto occasionale e spontanea quanto lo è l'articolazione qualitativa. Perciò i nostri produttori di merci si accorgono che quella medesima divisione del lavoro che li fa produttori privati indipendenti, fa poi indipendenti proprio da loro sia il processo sociale di produzione sia i loro rapporti entro tale processo. E si accorgono che l'indipendenza reciproca delle persone ha il suo complemento in un sistema di dipendenza tra di essi, imposto dalle cose. La divisione del lavoro trasforma in merci il prodotto del lavoro e in tal maniera rende d'obbligo la sua trasformazione in denaro e contemporaneamente rende occasionale la riuscita o meno di questa transustanziazione. Qui però il fenomeno deve essere considerato puro, ossia bisogna supporre che esso si verifichi normalmente. D'altra parte è sufficiente che esso si verifichi in qualunque maniera e che perciò la merce non sia invendibile affinché avvenga il cambiamento di forma della stessa merce, anche se in questo cambiamento di forma si avesse una irregolare perdita o aggiunta di sostanza, ossia di grandezza di valore. Per un possessore di merci la sua merce viene sostituita da oro e per un altro il suo oro viene sostituito da merce. Il fenomeno sensibile è il cambiamento di mano o di posto di merce e di oro, di 20 braccia di tela e di 2 lire sterline. È quindi il loro scambio. Ma con che cosa si scambia la merce? Con la sua stessa figura generale di valore. E con che cosa si scambia l'oro? Con una particolare figura del suo valore d'uso. Perché l'oro nei confronti della tela appare come denaro? Perché il suo prezzo di 2 lire sterline, cioè il suo nome di denaro, rapporta già la tela all'oro come denaro. L'atto di disfarsi della forma originaria di merce avviene tramite l'alienazione della merce, ossia nel momento in cui il suo valore d'uso procura realmente l'oro che era solo immaginato nel suo prezzo. La realizzazione del prezzo, cioè la forma di valore soltanto ideale della merce, è perciò al contrario e allo stesso tempo realizzazione del valore d'uso soltanto ideale del denaro. La trasformazione della merce in denaro è allo stesso tempo trasformazione del denaro in merce. Il processo unico è processo bilaterale. Dal polo del possessore di merci è vendita, dal polo contrario del possessore di denaro è acquisto. In altre parole, vendita è acquisto. MD è pure DM. Ogni vendita è acquisto. D. R. Quesney, Dialoghi sul commercio e sui lavori degli artigiani, fisiocratici. Edizione D'Aire, parte 1, Parigi 1846, pagina 170. Oppure come dice Quesney nelle sue Maxime Generali, Massime Generali. Vendere è acquistare. L'intero titolo dell'opera è Massime Generali del governo economico di un regno agricolo, 1758. Fino ad ora noi non abbiamo conoscenza di altro rapporto economico tra gli uomini, a eccezione di quello tra possessori di merci, rapporto in cui essi si procurano il prodotto di lavoro altrui solamente disfacendosi del proprio. Perciò, il possessore di merci può andare da un altro solo come possessore di denaro, o in quanto il suo prodotto di lavoro ha per natura la forma di denaro, e quindi è materiale di denaro, oro, eccetera, oppure in quanto la sua merce ha già cambiato pelle e si è tolta via la sua forma d'uso originaria. L'oro, per fungere da denaro, deve naturalmente andare nel mercato delle merci, in un punto qualunque. Questo punto si trova la sua sorgente di produzione, dove esso si scambia come prodotto diretto di lavoro con un altro prodotto di ugual valore. Da adesso in poi, però, esso sta a indicare sempre prezzi realizzati di merci. Il prezzo di una merce può essere pagato soltanto con il prezzo di un'altra merce. Mercier de la Rivière, l'ordine naturale ed essenziale delle società politiche. Physiocrates, edizione d'Aire, parte e seconda, pagina 554. Paul Pierre Lemaire de la Rivière, 1720-1793, economista francese, divulgatore di Quesney, fu redattore del Giornale dell'Agricoltura, del Commercio e delle Finanze, organo dei fisiocratici. L'opera che qui cita Marx fu riassunta da P.S. Dupont de Nemours con titolo dell'origine e dei progressi di una nuova scienza, 1768. Non tenendo conto dello scambio dell'oro con merce e la sua sorgente di produzione, l'oro è nelle mani di ogni possessore la forma cambiata della sua merce alienata, prodotto della vendita, cioè della prima metamorfosi della merce, MD. Per ottenere questo denaro bisogna aver venduto. Opera citata, pagina 543. L'oro è divenuto moneta ideale, cioè misura di valore, avendo tutte le altre merci misurato in oro i propri valori e avendone così fatto l'antitesi rappresentata della loro figura d'uso, la loro figura di valore. L'oro diviene poi moneta reale facendone le merci, con la loro generale alienazione, la propria figura d'uso veramente spogliata, cioè trasformata e quindi la propria figura reale di valore. La merce nella sua figura di valore elimina ogni segno del suo originario valore d'uso e del particolare lavoro utile per il quale è nata, per mettersi nel bozzolo dell'uniforme materializzazione sociale del lavoro umano indifferenziato. Perciò non si può scorgere nel denaro di che guisa è la merce che sia trasformata in esso. Nella sua forma di moneta una merce ha l'identico aspetto di un'altra, quindi il denaro può essere sterco, pur non essendo lo sterco denaro. Supponiamo che le due monete d'oro in cambio delle quali il nostro tessitore è soddisfatto della sua merce siano la figura trasformata in un quarter di grano. La vendita della tela, MD, è allo stesso tempo il suo acquisto, DM. Ma come vendita della tela questo processo inizia un movimento che affine con il suo contrario, con l'acquisto della Bibbia. Come acquisto della tela il processo conclude un movimento che ha iniziato con il suo contrario, con la vendita del grano. MD, tela denaro, prima fase di MDM, tela denaro e Bibbia, è allo stesso tempo DM, denaro tela. Ultima fase di un altro movimento, MDM, grano, denaro, tela. La prima metamorfosi di una merce e la sua trasformazione in denaro dalla forma di merce è sempre allo stesso tempo seconda contraria metamorfosi di un'altra merce, la sua ritrasformazione in merce dalla forma di denaro. Qui, come si è osservato sopra, non conta il produttore d'oro o rispettivamente d'argento che scambia il suo prodotto senza che lo abbia prima venduto? DM, seconda metamorfosi, cioè definitiva metamorfosi della merce, acquisto. Essendo il denaro la figura modificata di tutte le altre merci, cioè il prodotto della loro generale alienazione, esso è la merce assolutamente alienabile. Esso legge al contrario tutti i prezzi e in tal modo si riflette in tutti i corpi di merce che gli danno come materia del suo stesso costituirsi in merce. Contemporaneamente i prezzi, occhi amorevoli con cui le merci gli lanciano segni, rendono evidente il limite della sua possibilità di trasformazione, vale a dire la sua propria quantità. Già che la merce sparisce tramutandosi in denaro, non ci si accorge dall'aspetto del denaro come esso giunga nelle mani del suo possessore o che cosa sia tramutato in denaro. Nonolet, letteralmente nonodora, qualunque sia la sua origine. Da un lato rappresenta merce venduta, dall'altro merce acquistabili. Se il denaro rappresenta nelle nostre mani le cose che noi possiamo desiderare di acquistare, vi rappresenta pure le cose che abbiamo venduto per ottenere questo denaro. Mercier de la Rivière, Lorde Naturel, eccetera. Pagina 586. DM, l'acquisto, è nello stesso tempo vendita. MD, l'ultima metamorfosi di una merce, è perciò contemporaneamente la prima metamorfosi di un'altra merce. Per il nostro tessitore, l'avventura della sua merce a termine con la Bibbia, in cui egli ha ritrasformato le due lire sterline. Ma il venditore della Bibbia permuta le due lire sterline sborsate dal tessitore in acquavite di grano. DM, fase finale MDM, tela, denaro, Bibbia. E allo stesso tempo MD, prima fase di MDM, Bibbia, denaro, acquavite di grano. E dato che il produttore offre solo un prodotto unilaterale, lo vende sovente in quantità piuttosto grandi, mentre è costretto dai suoi vari bisogni, a ripartire il prezzo realizzato, cioè la somma di denaro pagatogli in più di un acquisto. Perciò una vendita va a finire in molti acquisti di merci diverse. La metamorfosi finale di una sola merce dà origine quindi a un insieme di prime metamorfosi di altre merci. Esaminiamo adesso la metamorfosi complessiva di una merce, per esempio della tela. Innanzitutto notiamo che essa consta di due movimenti opposti e complementari tra loro. MD, DM. Queste due opposte modificazioni della merce avvengono in due opposti procedimenti sociali del possessore di merci e si riflettono in due suoi oppositori caratteri economici. Compiendo la vendita egli diviene venditore, compiendo l'acquisto diviene acquirente. Ma come in ogni modificazione della merce vi sono allo stesso tempo le sue due forme, forme di merce e forma di denaro, sebbene a opposti estremi anche il possessore di merci ha davanti a sé come venditore un altro acquirente e come acquirente un altro venditore. Come la medesima merce passa da una all'altra delle opposte modificazioni e da merce diventa denaro, da denaro diventa merce. Così anche il possessore di merce passa dalla parte del venditore successivamente a quella dell'acquirente. Questi perciò non sono caratteri immutabili, sono al contrario caratteri che mutano in continuazione di persona nell'ambito della circolazione delle merci. La metamorfosi complessiva di una merce presuppone nella sua forma più semplice quattro estremi e tre persona e dramatis. Personaggi della commedia. I quattro estremi sono il denaro che compare due volte e le due merci, una venduta e l'altra acquistata. MD, DM. I tre personaggi sono il primo possessore della merce, il possessore del denaro che egli ricava dalla sua vendita e un terzo possessore di merce a cui egli si rivolge per il suo acquisto. In un primo tempo appare dinanzi alla merce come sua figura valore il denaro che possiede una dura realtà di cose al di là nella tasca di altri. In tal maniera un possessore di denaro appare dinanzi al possessore di merce, ma appena la merce è trasformata in denaro questo diviene la sua forma di equivalente che scompare, il cui valore d'uso o contenuto esiste al di qua, in altri corpi di merci. Il denaro come punto finale della prima trasformazione delle merci è allo stesso tempo punto di partenza della seconda trasformazione. Così, quello che nella prima contrattazione era il venditore diviene acquirente nella seconda, in cui un terzo possessore di merci gli si presenta quale venditore. In tal maniera vi sono quattro punti finali, termini e tre contrattanti, dei quali uno interviene due volte, le trosne dell'interesse social, pagina 908. Le due fasi inverse del movimento della metamorfosi delle merci formano un ciclo, forma di merce, spoliazione della forma di merce, ritorno alla forma di merce. La stessa merce è certo qui determinata per opposizione. Al punto di partenza essa è per il suo possessore un non valore d'uso, al punto di arrivo invece è valore d'uso. Alla stessa maniera dapprima appare come il solido cristallo di valore in cui si trasforma la merce, per disciogliersi poi come sua semplice forma di equivalente. Le due metamorfosi che formano il ciclo di una sola merce costituiscono contemporaneamente le metamorfosi parziali e inverse di due altre merci. La medesima merce, tela, inizia la serie delle proprie metamorfosi e chiude le metamorfosi complessive di un'altra merce, grano. Essa, durante la sua prima trasformazione, la vendita, rappresenta in persona proprio queste due parti. Invece, quale crisalide aurea, in cui anch'essa finisce come ogni creatura, pone allo stesso tempo termine alla prima metamorfosi di una terza merce. Il ciclo compiuto dalla serie di metamorfosi di ogni merce si compenetra così in maniera indissolubile con i cicli di altre merci. L'intero processo si presenta come circolazione delle merci. La circolazione delle merci si distingue sostanzialmente e non solo formalmente dal diretto scambio dei prodotti. Basta gettare uno sguardo retrospettivo al processo. Il tessitore certo ha permutato tela con bibbia, merce propria con merce altrui, ma questo fenomeno è vero solo per lui. Il venditore di bibbie, che al freddo preferisce il caldo, non pensava di permutare tela con bibbia, mentre il tessitore ignora affatto che la sua tela è stata permutata con grano, eccetera. La merce di B sostituisce la tela di A senza che A e B scambino tra loro le proprie merci. In effetti si può dare il caso che A e B acquissino reciprocamente l'uno dall'altro, ma questa particolare relazione non ha per niente la sua condizione nei rapporti generali della circolazione delle merci. Da un lato vediamo qui come lo scambio di merci frantuma i limiti individuali e locali del diretto scambio di prodotti e sviluppa il ricambio organico del lavoro umano. D'altro lato si viene a formare tutto un insieme di nessi sociali spontanei e che sfuggono al controllo delle persone che conducono l'operazione. Il tessitore può vendere solamente tela, perché il contadino può vendere solamente grano, testa calda può vendere solo la bibbia, appellativo ironico dato al venditore di bibbie, perché il tessitore può vendere solo tela, il distillatore può vendere solo acqua ardente, perché l'altro ha già venduto l'acqua della vita eterna e via dicendo. Quindi il processo di circolazione non si spegne come il diretto scambio dei prodotti, cambiando luogo e mano dei valori d'uso. Il denaro non vi è in meno perché alla fine va a finire fuori dalla serie di metamorfosi di una merce. Esso ricade sempre su un punto della circolazione abbandonato dalle merci. Per esempio, nella metamorfosi complessiva della tela, tela, denaro, bibbia, la prima a finire fuori della circolazione è la tela, ne prende il posto il denaro, poi esce dalla circolazione della bibbia, le subentra il denaro. La sostituzione di merce con merce fa sì che il denaro resti allo stesso tempo nella mano di un terzo. La circolazione trasude in continuazione denaro. La circolazione delle merci ha bisogno del denaro come di misura del valore delle medesime. Ogni trasformazione di merci in merce ha nel denaro il suo punto medio. Non esiste nulla di più semplice del dogma secondo cui la circolazione delle merci comporta necessariamente un equilibrio delle vendite e degli acquisti, perché ogni vendita è acquisto, e viceversa. Se questo vuol dire che il numero delle vendite realmente effettuate è uguale allo stesso numero di acquisti, allora noi avremmo una banale tautologia. Ma ciò dovrebbe provare che il venditore porta al mercato il suo proprio acquirente. Vendita e acquisto sono un identico atto come reciproca relazione tra due persone polarmente opposte, possessore di merce e possessore di denaro. Come azioni della medesima persona essi sono due atti polarmente opposti. L'identità di vendita e acquisto comporta dunque che la merce divenga inutile quando, gettata nelle provette alchimiche della circolazione, non ne viene fuori come denaro, non è venduta dal possessore di merci e perciò non è acquistata dal possessore di denaro. Quella identità porta inoltre come conseguenza che il processo, se riuscito, costituisce un punto fermo, un periodo di vita della merce che può durare più o meno a lungo. Questo processo parziale, essendo la prima metamorfosi delle merci allo stesso tempo vendita e acquisto, è allo stesso tempo processo autonomo. L'acquirente ha la merce, il venditore ha il denaro, ossia una merce che possiede una forma adatta alla circolazione, sia che essa ricompaia subito sul mercato, sia che vi ricompaia in seguito. Nessuno può vendere senza che un altro acquisti, ma nessuno, solo perché ha venduto, deve acquistare immediatamente. La circolazione frantuma i limiti di tempo, di spazio e individuali dello scambio di prodotti, appunto perché nella contrapposizione di vendita e acquisto separa l'immediata identità presente dando in cambio il prodotto del proprio lavoro e ricevendo in cambio quello del lavoro di altri. Il fatto che i processi che si contrappongono indipendentemente tra loro formino intrinseca unità, vuol dire pure che la loro unità intrinseca si muove in contrapposizioni esterne. Qualora il rendersi indipendenti nell'esteriore da parte dei due momenti che non sono all'interno indipendenti, poiché sono complementari tra loro, arriva sino a un certo punto, l'unità si afferma con la violenza, attraverso una crisi. La contrapposizione immanente alla merce, di valore d'uso e di valore, di lavoro privato che deve apparire contemporaneamente come diretto lavoro sociale, di particolare lavoro concreto che conta contemporaneamente solo come astratto lavoro generale, di personificazione dell'oggetto e di oggettivazione della persona, questa immanente contraddizione possiede le sue forme sviluppate di movimento nelle opposizioni della metamorfosi delle merci. Perciò queste forme implicano la possibilità, ma soltanto la possibilità della crisi. Il trapasso da questa possibilità a realtà richiede tutto un insieme di rapporti che non esistono ancora dal punto di vista della circolazione semplice delle merci. Si mettono a confronto le mie osservazioni su James Mill. James Mill, 1773-1836, filosofo ed economista inglese, partecipò alla vita politica del suo paese collaborando alla realizzazione della riforma elettorale del 1832. Nella sua opera elementi di economia politica, 1821, si rivela seguaci di Riccardo, fu il padre del già citato John Stewart. In Per la critica eccetera, pagine 74-76, qui due punti sono caratteristici del metodo dell'apologetica economicistica. In primo luogo l'identificazione di circolazione delle merci e diretto scambio dei prodotti tramite una semplice astrazione dalle loro diversità. In secondo luogo il tentativo di negare le contraddizioni del processo di produzione capitalistico, riducendo i rapporti dei suoi agenti di produzione in semplici relazioni che sorgono dalla circolazione delle merci. Ma produzione delle merci e circolazione delle merci sono fenomeni che appartengono ai più diversi modi di produzione, anche se in misura e in maniera diversa. Quindi non si conosce ancora nulla della differentia specifica di questi modi di produzione, né si possono giudicare se si conoscono solo le astratte categorie della circolazione delle merci, ad essi comuni. In nessuna scienza come nell'economia politica domina l'usanza di darsi tanto importanza con luoghi comuni elementari. Per esempio, JB6 pretende di sputare giudizi sulle crisi per il fatto che egli sa che la merce è un prodotto. Nelle sue opere, Trattato d'economia politica 1803 e Corso completo d'economia politica 1828-1829, Sey formulò la nota legge detta appunto di Sey o degli sbocchi, per cui i prodotti si permutano con i prodotti. L'offerta crea la domanda. Secondo tale legge non può esistere una generale crisi da sovrapproduzione, ma possono accadere solo parziali eccedenzi di offerta di beni individuali. Perciò ogni aumento di risparmio, e per se il risparmio significa pure capitale, starebbe a generare un aumento di ricchezza. Il denaro, in quanto mediatore della circolazione delle merci, assume la funzione di mezzo di circolazione. B. La circolazione del denaro. Il cambiamento di forma in cui avviene il ricambio organico dei prodotti del lavoro, MDM, comporta che il medesimo valore sia, in quanto merce, il punto di partenza del processo, tornando in seguito, in quanto merce, allo stesso punto. Questo movimento delle merci è perciò un ciclo. Del resto, la stessa forma esclude il ciclo del denaro. Il suo risultato è un continuo allontanamento del denaro dal suo punto di partenza, non un ritorno ad esso. Finché il venditore mantiene la figura modificata della sua merce, il denaro, la merce si trova nello stadio della prima metamorfosi, cioè ha compiuto solo la prima metà della circolazione. Una volta che il processo vendere per acquistare è terminato, anche il denaro si allontana dalla mano del suo originario possessore. Pure quando il tessitore, dopo che ha acquistato la Bibbia, vende di nuovo la tela, anche il denaro torna nella sua mano. Ma non vi torna per mezzo della circolazione delle prime braccia di tela, al contrario, essa l'ha allontanato dalle mani del tessitore, facendolo finire in quelle del venditore di Bibbie. Esso ritorna solo tramite il rinnovamento o la ripetizione di questo stesso processo di circolazione per nuova merce, e termina qui come lì col medesimo risultato. Perciò la forma di movimento diretta che viene dal denaro dalla circolazione delle merci consiste nel continuo allontanamento del denaro dal punto di partenza, nel suo correre dalla mano di un possessore di merci nella mano dell'altro, vale a dire nel suo corso. Currency, curse de la monnaie. La circolazione del denaro registra un continuo e sempre uguale ripetersi del medesimo processo. La merce appartiene sempre al venditore, il denaro sempre all'acquirente, quale mezzo d'acquisto. Esso funge da mezzo d'acquisto perché realizza il prezzo della merce. In tale maniera il denaro trasporta la merce dalla mano del venditore a quella dell'acquirente, allontanandosi allo stesso tempo dalla mano dell'acquirente verso quella del venditore, fino a cominciare da capo il medesimo procedimento con un'altra merce. Non appare evidente che questa forma unilaterale del movimento del denaro deriva dalla forma bilaterale del movimento della merce. La stessa natura della circolazione delle merci fa sembrare proprio il contrario. La prima metamorfosi della merce non si manifesta solo come movimento del denaro, ma pure come movimento proprio della merce stessa. Ma la sua seconda metamorfosi si manifesta soltanto come movimento del denaro. Nella prima metà della sua circolazione la merce si scambia di posto col denaro e in questa maniera la sua misura di consumo passa nello stesso istante dalla circolazione al consumo. Seppure la merce viene rivenduta più volte, e questo è un caso che non si è ancora verificato per noi, essa con l'ultima vendita definitiva passa dalla sfera della circolazione a quella del consumo per servirvi come mezzo di sussistenza o mezzo di produzione. Le subentra la sua figura di valore o crisalide di denaro. La merce non attraversa più la seconda parte della circolazione nella sua pelle naturale, ma nella sua pelle d'oro, in quanto la tela è andata a soddisfare il particolare bisogno del suo acquirente per il quale essa è un valore d'uso. Esce così dalla sfera della circolazione per entrare in quella del consumo. Nella prima vi rimane solo il denaro, pronto a funzionare da valore di scambio per nuove merci. In tal maniera la continuità del movimento si viene a trovare tutta dalla parte del denaro, e quel medesimo movimento, che per la merce comporta due opposti processi, comporta invece sempre lo stesso processo in quanto movimento proprio del denaro, e cioè il mutamento di posto con merci sempre nuove. Quindi il risultato della circolazione delle merci, vale a dire la sostituzione di merce con altra merce, non viene mediato dal cambiamento di forma delle merci, ma dalla funzione del denaro come mezzo di circolazione, che fa circolare delle merci che in se stesse sarebbero immobili, che le fa passare dalla mano in cui sono non valori d'uso, a quella in cui sono valori d'uso, e sempre in direzione contraria al suo stesso corso. In direzione contraria perché se il denaro va dall'acquirente che lo possiede al venditore di merce, e da questo al nuovo venditore, la merce va sempre dal suo possessore all'acquirente. Il denaro allontana in continuazione le merci dalla sfera della circolazione, e subentra sempre nel loro punto di circolazione, allontanandosi in tal modo dal suo punto di partenza. Perciò, sebbene il movimento del denaro stia soltanto ad indicare la circolazione delle merci, al contrario la circolazione è solo il risultato del movimento del denaro. Esso, il denaro, possiede il solo movimento che gli è dato dai prodotti. L'etrosn dell'internet social, pagina 885. Il denaro, del resto, funge da mezzo di circolazione soltanto perché esso è il valore delle merci, resosi indipendente. Perciò il suo movimento come mezzo di circolazione è in effetti solo il movimento di forma proprio delle merci, che si deve quindi riflettere anche sensibilmente nella circolazione del denaro. Così la tela, per esempio, trasforma dapprima la propria forma di merce nella propria forma di denaro. L'ultimo estremo della sua prima metamorfosi, MD, la forma di denaro, diviene per questo la prima estremità della sua ultima metamorfosi, DM, del suo riconvertirsi nella Bibbia. Ma questi mutamenti di forma avvengono entrambi tramite uno scambio tra merce e denaro, tramite il reciproco cambiamento di posto di merce e denaro. Le monete stesse giungono nella mano del venditore come figura alienata della merce e quindi se ne ripartono come figura affatto alienabile della merce. Esse cambiano posto per due volte. La prima metamorfosi della tela porta quelle monete nella tasca del tessitore, la seconda ve le ritira fuori nuovamente. Perciò i due opposti mutamenti di forma della medesima merce si riflettono nel duplice spostamento del denaro in opposte direzioni. Se invece avvengono solamente metamorfosi unilaterali delle merci, semplici vendite o semplici acquisti, come se ne voglia, lo stesso denaro cambia anch'esso di posto solo una volta. Il suo secondo cambiamento di posto indica sempre la seconda metamorfosi della merce, il suo riconvertirsi in denaro. Non soltanto la serie di metamorfosi di una singola merce, ma anche l'interferenza che avviene generalmente tra le infinite metamorfosi del mondo delle merci. Si riflette nella continua ripetizione del cambiamento di posto delle monete stesse. D'altra parte è assai evidente che tutto questo conta solo per la forma della circolazione semplice delle merci che andiamo qui esaminando. Ogni merce, al suo primo passo nella circolazione, al suo primo mutamento di forma, cade fuori della circolazione, in cui poi entra sempre nuova merce. Il denaro, al contrario, in quanto mezzo di circolazione, rimane continuamente nella sua sfera e vi si aggira continuamente. Ne deriva perciò il problema di quanto denaro assorba in continuazione tale sfera. In un paese si verificano quotidianamente infinite metamorfosi unilaterali di merci, vale a dire, in altri termini semplici, vendite da una parte, semplici acquisti dall'altra. Esse avvengono nello stesso tempo, perciò l'una vicino all'altra nello spazio. Le merci, nei loro prezzi, sono già uguagliate a date quantità ideali di denaro. Dato che, quindi, la forma di circolazione diretta qui esaminata contrappone sempre corporeamente merce e denaro, l'una al polo della vendita, l'altro al polo opposto dell'acquisto, la massa di mezzi di circolazione che occorre per il processo di circolazione del mondo delle merci, cioè la quantità di denaro implicita nella circolazione complessiva delle merci, è già determinata dalla somma dei prezzi delle merci. In effetti, il denaro rappresenta realmente la somma d'oro già rappresentata idealmente nella somma dei prezzi delle merci. L'uguaglianza di queste somme è perciò evidente, ma noi abbiamo visto che rimanendo uguali i valori delle merci, i loro prezzi cambiano col valore dell'oro stesso, materiale del denaro, e aumentano in proporzione al suo calare, e calano aumentando quello. Aumentando o calando la somma dei prezzi delle merci, deve in proporzione aumentare o calare la massa del denaro circolante. Certamente qui il mutamento nella massa dei mezzi di circolazione deriva dallo stesso denaro, ma non dalla sua funzione di mezzo di circolazione, bensì dalla sua funzione di misura del valore. Innanzitutto, il prezzo delle merci muta in ragione inversa del valore del denaro, e poi la massa dei mezzi di circolazione muta in ragione diretta del prezzo delle merci. Lo stesso identico fenomeno accadrebbe qualora, per esempio, non calasse il valore dell'oro o non aumentasse il valore dell'argento, ma qualora l'argento prendesse il posto dell'oro come misura del valore, oppure qualora non aumentasse il valore dell'argento, ma l'oro lo eliminasse dalla funzione di misura del valore. Nel primo caso, dovrebbe circolare più argento di quanto oro circolasse prima. Nel secondo, dovrebbe circolare meno oro di quanto argento circolasse prima. In ambe i due casi, sarebbe mutato il valore del materiale del denaro, ossia della merce che funge da misura dei valori, e perciò sarebbe mutata l'espressione in prezzo dei valori delle merci, e di conseguenza la massa del denaro circolante che occorre alla realizzazione di quel prezzo. Abbiamo visto che la sfera della circolazione ha una porta, attraverso la quale l'oro, o l'argento, insomma il materiale del denaro, entra in essa quale merce di valore dato. Questo valore si presuppone nella funzione del denaro come misura del valore, perciò nella determinazione del prezzo. Adesso, se cala per esempio il valore della stessa misura del valore, questo fenomeno apparirà innanzitutto nel mutamento di prezzo delle merci che vengono permutate come merci con i metalli pregiati direttamente alla loro sorgente di produzione dei metalli pregiati. Soprattutto in stadi meno evoluti della società civile, una gran parte delle altre merci sarà ancora stimata per un po' di tempo nel valore, ormai diventato illusorio e antiquato, della misura di valore. Nel frattempo, una merce intaccherà l'altra tramite il suo rapporto di valore con essa. I prezzi in oro o in argento delle merci, un po' per volta, si conguaglieranno nelle proporzioni stabilite dai loro stessi valori. Finché in ultimo, tutti i valori delle merci saranno stimati in base al nuovo valore del metallo denaro. A questo processo di conguaglio si accompagna il costante aumento dei metalli pregiati, che affluiscono prendendo il posto delle merci scambiate direttamente con essi. Perciò, nella stessa misura che si generalizza la correzione della tarifa dei prezzi delle merci, che cioè i valori delle merci sono stimati in base al nuovo valore del metallo, calato e che seguita a calare sino a un dato punto, è già presente la massa supplementare di esso che occorre per effettuare la stessa correzione. Una parziale di esamina degli avvenimenti che tennero dietro alla scoperta delle nuove sorgenti d'oro e d'argento fece erroneamente credere nel secolo XVII, e soprattutto nel secolo XVIII, che i prezzi delle merci fossero aumentati perché funzionava da mezzo di circolazione una maggior quantità d'oro e d'argento. In quel che segue, il valore dell'oro è supposto come dato, come in effetti è dato al momento della fissazione dei prezzi. Perciò, una volta stabilito questo, la massa dei mezzi di circolazione è determinata dalla somma dei prezzi delle merci che si deve realizzare. Supponiamo anche che il prezzo di ogni genere di merci sia dato. In tal caso, evidentemente, la somma dei prezzi delle merci deriva dalla massa di merci che è in circolazione. Non ci si deve arrovellare il cervello per comprendere che se un quarter di grano costa 2 lire sterline, 100 quarter costeranno 200 sterline, 200 quarter 400 sterline, eccetera, e perciò insieme alla massa del grano deve aumentare la massa del denaro che nella vendita cambia di posto con esso. Se supponiamo come data la massa delle merci, la massa del denaro circolante fluttua in su e in giù con le oscillazioni di prezzo delle merci. Essa aumenta e cala perché la somma dei prezzi delle merci aumenta o diminuisce in conseguenza il loro mutamento di prezzo. E per questo non è assolutamente necessario che i prezzi di tutte le merci aumentino e decrescano nello stesso tempo. Il rialzo di prezzo da una parte, il ribasso dall'altra di un dato numero degli articoli più importanti, bastano a far aumentare o diminuire la somma dei prezzi di tutte le merci circolanti che si deve realizzare e quindi basta pure a mettere in circolazione più o meno denaro. Sia che il mutamento di prezzo delle merci rifletta realmente dei mutamenti di valore, sia che rifletta semplici oscillazioni dei prezzi di mercato, rimane il medesimo l'effetto sulla massa dei mezzi di circolazione. Supponiamo un determinato numero di vendite, vale a dire di metamorfosi parziali, non in relazione tra loro, simultanee e perciò che si effettuano l'una vicino all'altra nello spazio. Per esempio di un quarter di grano, 20 braccia di tela, una bibbia, 4 galloni di acquavite di grano. Un gallone corrisponde a litri 4,543. Se il prezzo di ogni articolo è di 2 lire sterline e perciò la somma dei prezzi che si deve realizzare è di 8 lire sterline, deve allora entrare nella circolazione una massa di denaro di 8 lire sterline. Se al contrario le stesse merci non sono altro che membri della nuova serie di metamorfosi, un quarter di grano 2 lire sterline, 20 braccia di tela 2 lire sterline, una bibbia 2 lire sterline, 4 galloni di acquavite di grano 2 lire sterline, in tal caso le 2 lire sterline mettono in circolazione le diverse merci ognuna secondo il suo turno, realizzando di volta in volta i loro prezzi e perciò anche la somma dei prezzi, 8 lire sterline, per fermarsi infine nella mano del distillatore. Esse compiono 4 giri. Questo continuo mutamento di posto delle stesse monete rappresenta il duplice mutamento di forma della merce, il suo movimento attraverso due posti stadi della circolazione e l'intrecciarsi della metamorfosi di diverse merci. Sono i prodotti quelli che mettono in movimento il denaro e che lo fanno circolare. La celerità del suo movimento, ossia del denaro, suppliccia la sua quantità. Esso, quando corre, non fa che scivolare da una mano all'altra senza star fermo un solo istante. Le trosne dell'Internet Social, pagine 915-916. Le fasi, opposte e tra loro complementari, per le quali passa questo processo, non possono verificarsi l'una vicino all'altra nello spazio, ma possono solo succedersi nel tempo l'una dopo l'altra. La misura della durata di questo processo è perciò costituita da periodi di tempo, cioè il numero dei giri delle stesse monete in un dato tempo misura la velocità della circolazione del denaro. Se, per esempio, il processo di circolazione di quelle quattro merci ha la durata di un giorno, allora la somma dei prezzi da realizzare ammonta 8 lire sterline. Il numero dei giri delle stesse monete durante la giornata ammonta 4 e la massa del denaro in circolazione ha 2 lire sterline. Vale a dire, per un determinato periodo del processo di circolazione abbiamo somma dei prezzi delle merci diviso numero dei giri di monete di ugual nome uguale massa del denaro, che funziona come mezzo di circolazione. Per ottenere quindi la quantità di denaro che funziona da mezzo di circolazione in un determinato lasso di tempo occorre dividere la somma totale dei prezzi delle merci che si scambiano in questo periodo per il numero delle volte che monete di ugual nome passano da un produttore all'altro, cioè per il numero dei loro giri. Tale legge ha una validità generale. Certamente il processo di circolazione di un paese in un determinato periodo comprende da un lato molte vendite e rispettivamente acquisti sparse, simultanee e continue nello spazio, cioè metamorfosi parziali in cui le stesse monete cambiano di posto soltanto una volta, cioè eseguono soltanto un giro, e dall'altro lato comprende molte serie di metamorfosi più o meno complesse, in parte parallele e in parte intersecantesi tra di loro, in cui le stesse monete compiono un numero maggiore o minore di giri. Il numero totale dei giri di tutte le monete di ugual nome che stanno in circolazione esprime tuttavia il numero medio dei giri di ogni singola moneta, cioè esprime la velocità media della circolazione di denaro. La massa di denaro che per esempio viene immessa ogni giorno nel processo di circolazione è al suo inizio naturalmente determinata dalla somma dei prezzi delle merci che circolano nello stesso tempo e in uno spazio contiguo, ma ciascuna di queste monete all'interno del processo è resa, per così dire, responsabile verso l'altra. Se la prima accresce la sua velocità di circolazione, quella dell'altra si paralizza o cade completamente fuori dalla sfera della circolazione, giacché non può assorbire che una massa d'oro, la quale, moltiplicata per il numero medio dei giri del suo singolo elemento, è uguale alla somma dei prezzi da realizzarsi. Perciò, se aumenta il numero dei giri delle monete, diminuisce la loro massa circolante. Se diminuisce il numero dei loro giri, aumenta la loro massa. Essendo determinata la massa del denaro che può fungere da mezzo di circolazione, quando sia determinata la velocità media, basta solo immettere per esempio nella circolazione una data quantità di biglietti da una lira sterlina per buttare fuori altrettanto sovereigns. Sovereign o sovrana è una moneta d'oro inglese emessa nel 1489 del ricco VII del valore di 20 cellini, con Carlo II nel 1663, fu sostituita dalla Guinea. Nel 1816 essa stette ad indicare l'unità monetaria del nuovo sistema base aurea, chiamata comunemente lira sterlina. Trucco ben conosciuto da tutte le banche. Come nella circolazione del denaro appare generalmente solo il processo di circolazione delle merci, vale a dire il loro ciclo attraverso opposte metamorfosi, così nella velocità della circolazione del denaro appare la velocità dei loro mutamenti di forma, il continuo intrecciarsi reciproco della serie di metamorfosi, il far pressione del ricambio organico, il celere scomparire delle merci dalla sfera della circolazione e la loro altrettanto celere sostituzione con nuove merci. Dunque, nella velocità della circolazione del denaro appare la unità fluida delle fasi opposte e tra loro complementari, trasformazione della figura d'uso in figura di valore e ritrasformazione della figura di valore in figura d'uso, cioè dei due processi della vendita e dell'acquisto. Al contrario, nel rallentamento della circolazione del denaro appare la separazione e il rendersi indipendenti e contrapposti di quei processi. La stasi del mutamento di forma e perciò del ricambio organico. Certamente la circolazione non ci permette di comprendere da dove provenga questa stasi, essa ci fa vedere solo il fenomeno. Alla intuizione popolare, che vede il denaro apparire e sparire meno spesso in ogni punto periferico della circolazione quando il corso del denaro subisce un rallentamento, appare ovvio interpretare il fenomeno come insufficienza della quantità dei mezzi di circolazione. Essendo il denaro la comune misura per l'acquisto e la vendita, chiunque abbia qualcosa da vendere ma non può trovare acquirenti è subito pronto a pensare che la mancanza di denaro nel paese o nella regione sia la causa del fatto che le sue merci non trovano acquirenti. Perciò generalmente ci si lamenta per la mancanza di denaro, il che è un grave sbaglio. Cosa occorre a questa gente che invoca denaro? Il fittavolo, farmer, si lamenta, ritiene che con più denaro nel paese potrebbe ottenere un buon prezzo per i suoi prodotti, quindi certamente non gli occorre del denaro ma un buon prezzo per il suo grano e il suo bestiame che vorrebbe ma non può vendere. E perché non può ottenere un buon prezzo? 1. O perché c'è troppo grano e troppo bestiame nel paese, in modo che la gente che si reca al mercato ha per lo più altrettanto bisogno di vendere ma pochi hanno bisogno di acquistare. Oppure 2. Manca il normale sbocco dell'esportazione. Oppure 3. Il consumo diminuisce quando per esempio la gente per povertà non può più spendere come prima per le sue necessità domestiche, così che non è l'aumento del denaro che potrebbe propiziare specificatamente la vendita dei beni del farmer, ma l'eliminazione di una di queste tre cause, che sono quelle che effettivamente fanno pressione sul mercato. Il mercante e il bottegaio hanno bisogno allo stesso modo di denaro, ossia hanno bisogno di smerciare i beni che trattano già che i mercati ristagnano. A una nazione non va mai meglio di quando le ricchezze passano celermente di mano in mano. Sir Dudley North, discorsi sul commercio, Londra 1691, pagina 11-15, passì. Tutte le menzogne di Herr Renschwand, John Herr Renschwand, 1728-1812, economista svizzero di tendenze fisiocratiche, si resumono nel dire che le contraddizioni che vengono dalla natura della merce e che perciò appaiono nella circolazione delle merci possono eliminarsi con l'aumento dei mezzi di circolazione. D'altra parte dall'illusione popolare che attribuisce l'estasi del processo di produzione di circolazione a una mancanza di mezzi di circolazione non deriva per niente il contrario, che un'effettiva mancanza di mezzi di circolazione, per esempio in seguito a truffe ufficiali con la Regulation of Currency, regolazione dei mezzi di circolazione, non possa far verificare da parte sua delle stasi. L'intera quantità del denaro che in ogni periodo di tempo funge da mezzo di circolazione è perciò determinata da un lato dalla somma dei prezzi del mondo delle merci in circolazione, d'altro lato dal flusso più lento o più rapido dei loro opposti processi di circolazione. Da esso dipende quale parte di quella somma dei prezzi possa essere realizzata tramite le medesime monete, ma la somma dei prezzi delle merci dipende sia dalla massa sia dai prezzi di ogni genere di merci. I tre fattori, il movimento dei prezzi, la massa delle merci in circolazione e in ultimo la velocità di circolazione del denaro, possono mutare in sensi diversi e in diverse proporzioni. E la somma dei prezzi da realizzare, e quindi la massa dei mezzi di circolazione alla necessaria, può anche essa passare per innumerevoli combinazioni. Elenchiamo appresso solo quelle più importanti nella storia dei prezzi delle merci. Se i prezzi delle merci restano gli stessi, la massa dei mezzi di circolazione può aumentare in quanto aumenta la massa delle merci circolanti, oppure in quanto diminuisce la velocità di circolazione del denaro, o quando ambe due agiscono insieme. La massa dei mezzi di circolazione può al contrario diminuire decrescendo la massa delle merci, o aumentando la velocità di circolazione. Se i prezzi delle merci subiscono un generale rialzo, la massa dei mezzi di circolazione può restare costante, quando la massa delle merci circolanti diminuisce nella stessa proporzione dell'aumento del suo prezzo, oppure quando la velocità di circolazione del denaro aumenta altrettanto celermente del rialzo dei prezzi, mentre rimane uguale la massa circolante di merci. La massa dei mezzi di circolazione può cadere perché diminuisce la massa delle merci, oppure perché la celerità del corso aumenta più rapidamente dei prezzi. Se i prezzi delle merci subiscono un generale calo, può restare costante la massa dei mezzi di circolazione, purché la massa delle merci aumenti nella stessa proporzione del calo del loro prezzo, oppure perché la velocità della circolazione del denaro diminuisca nella stessa proporzione dei prezzi. Essa può aumentare quando la massa delle merci aumenti più celermente, oppure quando la velocità di circolazione decresca più celermente di quanto cadano i prezzi delle merci. Le variazioni dei diversi fattori possono compensarsi tra di loro in maniera che, malgrado la sua continua instabilità, l'intera somma dei prezzi delle merci da realizzarsi, come pure la massa di denaro in circolazione, resti costante. Perciò, tenendo presente periodi di una certa lunghezza, abbiamo specialmente un livello medio della massa di denaro che circola in ogni paese, molto più costante di quanto potrebbe apparire a una prima occhiata. Non tenendo conto delle gravi perturbazioni che vengono periodicamente dalle crisi di produzione e da quelle del commercio, e più raramente dal mutamento nel valore stesso del denaro, abbiamo spostamenti di quel livello medio molto più piccoli di quanto potrebbe sembrare a prima vista. La legge, secondo cui la quantità dei mezzi di circolazione è determinata dalla somma dei prezzi delle merci circolanti e dalla velocità media della circolazione del denaro, esiste una data misura e una data proporzione del denaro necessaria per mantenere in movimento il commercio di una nazione. Qualcosa di maggiore o di minore gli riuscirebbe fatale. Come in un piccolo commercio al dettaglio, occorre una data quantità di farthings, piccole monete di rame, per cambiare le monete d'argento e per pagare quei conti che non si potrebbero saldare neanche con le più piccole monete d'argento. Così, come ora la proporzione numerica dei farthings che occorrono nel commercio deve essere calcolata dal numero degli acquirenti, dalla frequenza dei loro acquisti eppure, in special modo, dal valore della moneta argente a minima, così, in maniera analoga, la proporzione del denaro, oro e argento, che occorre nel nostro commercio è determinata dalla frequenza dei casi di scambio e dalla grandezza dei pagamenti. William Petty, Four Traities of Taxes and Contributions, Londra 1667, pagina 17. La teoria di Hume, David Hume, 1711-1776, noto esponente dell'empirismo inglese, amico e collaboratore di Adam Smith, le sue considerazioni economiche sono contenute nei discorsi politici, 1752, è stata difesa contro Jay Stewart, Sir James Stewart Denham, 1712-1780, economista scozzese, di cui si ricorda la indagine sui principi dell'economia politica, 1767, di tendenze moderatamente mercantiliste. Tra gli altri da A. Young, Arthur Young, 1741-1820, economista inglese, fondatore degli annali dell'agricoltura, fu ministro dell'agricoltura dal 1793 nel governo Pitt. Nella sua politica aritmetica politica, Londra 1774, dove esiste un apposito capitolo, prices depend on quantity of money, i prezzi dipendono dalla quantità di denaro, pagina 112. In Per la critica eccetera, pagina 149, io osservo, egli, Adam Smith, elimina tacitamente il problema della quantità della moneta in circolazione, in quanto tratta il denaro in maniera del tutto erronea come semplice merce. Questo conta solo per i punti dove Adam Smith tratta del denaro ex ufficio, di proposito. Però occasionalmente, per esempio nella critica dei sistemi precedenti di economia politica, si esprime in maniera esatta. In ogni paese la quantità della moneta viene regolata dal valore delle merci, dalla cui circolazione esso deve essere il mezzo. Il valore dei beni acquistati e venduti ogni anno in un paese comporta una certa quantità di denaro per farli circolare e distribuirli ai loro propri consumatori e non può impiegare una quantità maggiore. Il canale della circolazione attira necessariamente la somma che basta riempirlo e non prende mai niente di più. Wealth of Nations, libro IV, capitolo 1. Adam Smith comincia ugualmente la sua opera, ex ufficio, con una apoteosi della divisione del lavoro. In seguito, nell'ultimo libro intorno alle sorgenti delle entrate dello Stato, produce occasionalmente le accuse di A. Ferguson. Adam Ferguson, 1723-1816, storico e filosofo scozzese, autore di un saggio sulla società civile, 1776. Suo maestro contro la divisione del lavoro. Si può anche esprimere così, essendo date la somma di valore delle merci e la velocità media delle loro metamorfosi, la quantità del denaro, cioè del materiale monetario in circolazione, dipende proprio dal suo stesso valore. L'illusione è che i prezzi delle merci siano al contrario determinati dalla massa dei mezzi di circolazione e che quest'ultima sia a sua volta determinata dalla massa del materiale monetario che esiste in un paese. I prezzi delle cose saliranno certamente in ogni nazione a misura che l'oro e l'argento aumentano tra la gente. Per conseguenza, se in una qualunque nazione diminuiscono l'oro e l'argento, dovranno calare, in proporzione a questa diminuzione, i prezzi di tutte le merci. Jacob van der Leend, morto nel 1740, mercante olandese e vissuto a Londra, viene considerato l'iniziatore del socialismo scientifico inglese. Una comparazione più accurata tra van der Leend e i saggi? L'opera di Hume, cui si accenna, è Saggi e trattati su vari argomenti, edita a Londra nel 1770. Di Hume non mi fa minimamente dubitare che Hume conoscesse e utilizzasse lo scritto, certo importante, del van der Leend. Troviamo anche in Barboni, in scrittori più antichi, l'opinione che la massa dei mezzi di circolazione determina i prezzi. Van der Leend afferma, dal libero commercio non può derivare alcun inconveniente, anzi, ne viene un grandissimo vantaggio, poiché se la quantità di denaro costante delle nazioni viene a decrescere, cosa che le misure proibitive sono intenti ad impedire, le nazioni alle quali giunge il denaro costante s'accorgeranno sicuramente che tutte le cose aumentano di prezzo nella misura che cresce presso di loro la quantità di denaro costante. E i nostri prodotti manufatti e ogni altra merce saranno presto così a buon mercato che la bilancia del commercio si piegherà di nuovo a nostro vantaggio e di conseguenza farà tornare indietro da noi la moneta. Opera citata, pagina 44. Trova la sua spiegazione nei suoi primi sostenitori, nell'assurda ipotesi che nel processo di circolazione entrino merci senza prezzo e denaro senza valore, e che poi una parte aliquota del mucchio di merci si scambi con una parte aliquota della montagna di metallo. È evidente che ogni singolo genere di merci rappresenta per il suo prezzo un elemento della somma dei prezzi di tutte le merci in circolazione, ma non si riesce per nulla a comprendere come mai valori d'uso tra loro incommensurabili debbano essere scambiati in massa con la massa d'oro ed argento che si trova in un certo paese. Se si potesse con uno stratagemma far divenire il mondo delle merci un'unica merce complessiva, di cui ogni merci costituisse soltanto una parte aliquota, ne deriverebbe questo bel esempio di calcolo. Merce complessiva uguale x quintali d'oro. Merce A uguale parte aliquota della merce complessiva uguale la stessa parte aliquota di x quintali d'oro. Questo risulta ingenuamente da Montesquieu. Se si confronta la massa dell'oro e dell'argento che esiste nel mondo con la somma delle merci esistenti, si potrà certamente confrontare ogni singola derrata o singola merce con una data quantità dell'intera massa. Supponiamo che nel mondo vi sia solo una singola derrata o una singola merce, oppure che ve ne sia soltanto una che si possa acquistare e che sia altrettanto divisibile del denaro. Una data parte di questa merce deve corrispondere a una parte della massa del denaro. La metà del totale dell'una deve corrispondere alla metà del totale dell'altra. La determinazione dei prezzi delle merci dipende sempre in sostanza dal rapporto tra il totale delle merci e il totale dei segni monetari. Montesquieu, Esprit de Loire, volume terzo, pagine 12-13. Per l'ulteriore sviluppo di questa teoria fatta da Riccardo, dai suoi scolari James Mill, Lord Overstone, Lord Overstone, Lloyd Samuel Jones, 1796-1883, banchiere politico inglese, eccetera, si confronti per la critica eccetera pagine 146 e pagine 150. Il signor J. Sam Mill, con la logica eclettica che gli è usuale, riesce a seguire l'opinione di suo padre J. Mill e allo stesso tempo quella opposta. Se compariamo il testo del suo compendio Principles of Political Economy, Principi di Economia Politica, con la prefazione della prima edizione, dove egli si presenta come l'Adam Smith del suo tempo, non sappiamo se ammirare di più l'ingenuità dell'uomo o quella del pubblico che in perfetta buona fede l'ha accolto come Adam Smith. Ma egli sta a questo come il generale William Kars, Von Kars, sta al duca di Wellington. Le originali indagini del signor Jason Mill nel campo dell'economia politica, che non sono né profonde né essenziali, si trovano tutte in linea di parata nel suo modesto scritto apparso nel 1844. Some uncertain questions of political economy. Alcune questioni aperte di economia politica. Locke afferma senza dubbio la diretta connessione tra il non valore dell'or e dell'argento e la determinazione del loro valore tramite la quantità. Essendosi accordati gli uomini per dare all'or e all'argento un valore immaginario, l'intrinseco valore che appare in questi metalli è solamente la loro quantità. Some consideration etc. 1691. Works edizione 1777 volume secondo pagina 15. C. La moneta. Il segno del valore. La figura di moneta del denaro deriva dalla sua funzione come mezzo di circolazione. La parte di peso d'oro rappresentata nel prezzo, cioè nel nome di denaro delle merci, deve presentarsi ad esse nella circolazione, come pezzo d'oro di ugual nome, vale a dire moneta. La monetazione, come pure la definizione della scala di misura dei prezzi, è compito dello Stato. Tra le diverse uniformi nazionali che indossano oro e argento, in quanto sono moneta, ma che poi si tolgono di dosso sul mercato del mondo, si pone in evidenza la distinzione tra le sfere interne o nazionali della circolazione delle merci e la loro sfera generale, il mercato del mondo. Perciò moneta d'oro e lingotti d'oro si distinguono per nascita solamente per la loro figura e l'oro può continuamente passare da una forma all'altra. Non è certo pertinente all'argomento del mio scritto l'esame di dettagli, quale il diritto di monetaggio e altre simili cose, tuttavia per rispondere al sicofante romantico Adam Muller, Adam and Muller, 1779-1829, le espressioni citate sono tratte da Gli elementi della politica, 1809, che ammira la meravigliosa liberalità con cui il governo inglese conia gratuitamente monete. Riporto il seguente giudizio di Sir Dudley North, l'oro e l'argento hanno il loro flusso e riflusso come le altre merci, quando ne giungono quantitativi dalla Spagna, vengono portati nella torre e monetati. Si tratta del luogo ovvero era situata la Zecca di Londra. Poco tempo dopo si verifica una richiesta di lingotti per l'esportazione, ma se non ve ne sono a disposizione, se per caso tutto è monetato, che si deve fare? Si rifonda tutto, non significa nessuna perdita, perché la cognazione non costa nulla al proprietario, ma è la nazione che deve sopportare il danno pagando l'intrecciatura della paglia con cui nutrire gli asini. Se il mercante, North era personalmente uno dei più grandi mercanti del tempo di Carlo II, dovesse pagare un prezzo per la cognazione, non manderebbe il suo argento nella torre senza pensarci, e allora il denaro cognato avrebbe un valore sempre più alto dell'argento non cognato. North, discourses, eccetera. Pagina 18. La via per uscire dalla moneta è però la stessa che porta al croggiuolo di fusione. Difatti le monete auree, chi più chi meno, si consumano poco a poco nel loro corso. Titolo e materie aurei, contenuto nominale e contenuto sostanziale, iniziano il loro processo di separazione. Monete d'oro del medesimo nome divengono di valore non uguale, non essendo di ugual peso. L'oro come mezzo di circolazione si allontana dall'oro come scala di misura dei prezzi, ponendo perciò fino alla sua funzione di equivalente reale delle merci i cui prezzi sono da esso realizzati. La storia di questi intrighi è la storia monetaria del Medioevo e dell'età moderna sino al secolo XVIII. Perfino dalle leggi a noi più vicine sul grado di perdita di metallo che può mettere fuori corso una moneta aurea, che cioè può demonetizzarla, si riconosce la naturale tendenza del processo della circolazione a trasformare in apparenza d'oro l'essere d'oro della moneta, cioè a trasformare la moneta in un simbolo del suo contenuto metallico ufficiale. Se la stessa circolazione del denaro opera una scissione tra il contenuto reale e quello nominale della moneta, cioè scinde il suo essere metallo dal suo essere funzione, questo vuol dire che vi è insita la possibilità di sostituire il denaro metallico nella sua forma di moneta con marche di diverso materiale, cioè con simboli. Le difficoltà tecniche della monetazione di porzioni di peso d'oro e d'argento piccolissime e il fatto che all'inizio sono adoperati come misura di valore metalli meno pregiati al posto dei più pregiati, argento al posto di oro, rame al posto d'argento, e perciò sono essi che circolano come denaro quando il metallo più pregiato li sostituisce, rendono chiara storicamente la funzione delle marche d'argento e di rame quali sostituti delle monete d'oro. È il primo passo verso l'adozione di biglietti di carta, in essi il contenuto nominale è completamente separato dal contenuto reale, funzionano come meri simboli di valore. Essi fanno le veci dell'oro in quei cicli della circolazione delle merci in cui la moneta circola più celermente e di conseguenza si consuma prima, ossia in cui si ripetono in continuazione le vendite e gli acquisti in scala assai piccola. Per far sì che questi satelliti non si fissino stabilmente al posto dell'oro, vengono emanate leggi sulle proporzioni estremamente basse in cui essi debbono solo venire accettati in pagamento al posto dell'oro. Certo si intrecciano reciprocamente i diversi cicli nei quali hanno corso le diverse specie di moneta. La moneta divisionale compare vicino all'oro per il pagamento di frazioni della moneta d'oro più piccola. L'oro entra di continuo nella circolazione di dettaglio, ma ne viene di continuo buttato fuori tramite il cambio con moneta divisionale. Se l'argento non supera mai la quantità necessaria per i pagamenti più piccoli, non può essere raccolti in quantità sufficiente per i pagamenti più grandi. L'uso dell'oro nei grandi pagamenti comporta necessariamente anche il suo uso nel commercio al dettaglio. Chi possiede monete d'oro le offre per acquisti minori e con la merce comprata riceve indietro il resto in argento. In tal maniera l'eccedenza di argento, che altrimenti darebbe fastidio al commerciante al dettaglio, gli è tolta e si disperde nella circolazione generale. Ma se vi è tanto argento quanto occorre per piccoli pagamenti da effettuarsi indipendentemente dall'oro, il commerciante al dettaglio deve ricavare argento per i piccoli acquisti e questo di necessità si deve accumulare nelle sue mani. David Buchanan, 1779-1848, economista inglese. Inquiry into the taxation and commercial policy of Great Britain, indagine sulla politica fiscale e commerciale della Gran Bretagna, Edimburgo, 1844, pagine 248-249. Il contenuto metallico delle marche d'argento o di rame è stabilito arbitrariamente dalla legge. Esse si logorano nella circolazione anche prima della moneta aurea. Perciò la loro funzione di moneta diviene in effetti del tutto indipendente dal loro peso, ossia da ogni valore. L'essere moneta dell'oro è assolutamente separato dalla sua sostanza di valore. Per questo cose che sono relativamente prive di valore, biglietti di carta, possono funzionare al suo posto come moneta. Nelle marche di denaro metalliche il carattere meramente simbolico è ancora in un certo senso nascosto. Perché, come quelle d'oro, sono ancora formate da metallo. Esso risulta evidente nella carta moneta. Veramente, se ne che le premier pacquico, non è che il primo passo quello che costa. Qui si tratta solo della carta moneta dello stato a corso forzoso. Essa nasce spontaneamente dalla circolazione metallica. La moneta di credito suppone invece rapporti che, dal punto di vista della circolazione semplice delle merci, ci sono del tutto ignoti. Tuttavia, osserviamo di passaggio che, come la vera e propria carta moneta deriva dalla funzione del denaro come mezzo di circolazione, la moneta di credito ha la sua naturale radice nella funzione del denaro come mezzo di pagamento. Il mandarino delle finanze, Wang Mao-in, osò un giorno presentare al figlio del cielo un progetto che cercava celatamente di trasformare gli assegnati dell'impero cinese in biglietti di banca convertibili. Nella relazione dell'aprile 1854 del comitato degli assegnati ebbe una lavata di testa coi fiocchi. Non si dice se abbia avuto pure l'obbligatoria abbassonate coi bambù, ma alla fine della relazione si afferma. Il comitato ha esaminato con attenzione la sua proposta e ritiene che in essa tutto va a vantaggio dei commercianti e nulla va a vantaggio della corona. Studi dell'ambasciata imperiale russa a Pechino sulla Cina. Traduzione dal russo del dottor Karl Abel e di F.A. Mecklenburg. Volume primo, Berlino, 1858, pagina 47. L'intero titolo della relazione è Studi dell'ambasciata imperiale russa a Pechino sulla Cina, il suo popolo, la sua religione, le sue istituzioni, condizioni sociali, eccetera. Per quel che riguarda la continua perdita di metallo delle monete d'oro in seguito alla loro circolazione, ecco quel che diceva un governatore della Banca d'Inghilterra in qualità di teste davanti alla House of Lords Committee, comitato della Camera dei Lords, sui Bank Acts, leggi bancarie. Ogni anno una nuova classe di sovrane, non in senso politico, la sovrane è il nome della lira sterlina, diviene troppo leggera. La classe che mantiene il suo peso per un anno perde abbastanza con il logorio da far pendere l'anno seguente la bilancia contro di sé. House of Lords Committee, 1848, numero 429. Lo Stato immette dal di fuori nel processo della circolazione biglietti di carta su cui sono stampati i nomi di denaro, come una lira sterlina, 5 lire sterline, eccetera. Finché essi circolano veramente al posto della somma d'oro di ugual nome, nel loro movimento si riflettono soltanto le leggi della circolazione del denaro. Una specifica legge della circolazione della carta può venire solo dal suo rapporto con l'oro, in quanto essa rappresenta quest'ultimo. E la legge è semplicemente questa. Si deve limitare l'emissione di carta moneta in base alla quantità nella quale dovrebbe in effetti circolare l'oro o l'argento, che essa rappresenta simbolicamente. Certo è vero che la quantità d'oro che può assorbire la sfera della circolazione varia continuamente in più o in meno di un certo livello medio. Tuttavia, la massa del mezzo di circolazione non va mai al di sotto, in un dato paese, di un certo minimo che si stabilisce con l'esperienza. Non cambia certamente nulla al volume di questa massa minima né al suo continuo aggirarsi nella sfera di circolazione il fatto che essa rinnovi continuamente gli elementi che la formano. Vale a dire il fatto che essa consista di monete aure sempre nuove. Perciò la si può sostituire con simboli di carta. Ma se oggi tutti i canali della circolazione si empiono di carta moneta fino al limite della loro possibilità d'assorbimento di denaro, domani, in seguito alle oscillazioni della circolazione delle merci, essi potrebbero essere più che pieni. Ogni misura va allora perduta. Ma se la carta va oltre la sua misura, ossia oltre la quantità di moneta aurea di ugual nome che potrebbe circolare, essa ormai rappresenta nel mondo delle merci, non tenendo conto del pericolo di un generale discredito, soltanto la quantità d'oro determinata dalle sue leggi immanenti, e perciò anche l'unica che può rappresentare. Se la massa di biglietti rappresenta, per esempio, due once d'oro al posto di una per ogni biglietto, in effetti una lira sterlina diviene la denominazione in denaro di un'ottava doncia, per esempio al posto di un quarto doncia. Se si altera l'oro nella sua funzione di misura dei prezzi, si ottiene il medesimo risultato. Perciò gli stessi valori che prima erano indicati nel prezzo di una lira sterlina vengono ora indicati in quello di due lire sterline. La carta moneta è segno d'oro, ossia segno di denaro. Il suo rapporto con i valori delle merci consiste nel fatto che questi vengono indicati idealmente con le stesse quantità d'oro che sono rappresentate simbolicamente e sensibilmente sulla carta. La carta è un segno di valore, solo perché rappresenta quantità d'oro che sono pure quantità di valori, come tutte le altre quantità di merci. Nota la seconda edizione. Anche il seguente brano di Fullerton, John Fullerton, 1780 circa, 1849, economista inglese, da ricordare la sua partecipazione alle discussioni sulla riforma della Banca d'Inghilterra. Ci dimostra come pur i migliori scrittori sulla moneta abbiano idee poco chiare sulle varie funzioni del denaro. Per quanto concerne i nostri scambi all'interno, tutte le funzioni del denaro che generalmente vengono compiute da monete d'oro e d'argento possono essere compiute con uguale effetto da una circolazione di biglietti inconvertibili, che avrebbero l'unico valore artificiale e convenzionale che deriva dalla legge. Credo che non si possa negare questo fenomeno. Un valore di tal genere potrebbe assolvere tutti gli scopi di un valore intrinseco e potrebbe addirittura rendere superflua anche la necessità di una scala di misura, purché si mantenga nei dovuti limiti la quantità delle sue emissioni. Fullerton, Regulation of Currencies, il regolamento dei mezzi di circolazione, seconda edizione, Londra, 1845, pagina 21. Perciò, potendosi sostituire nella circolazione la merce e denaro con semplici segni di valore, essa è superflua come misura dei valori e come scala dei prezzi. L'intero titolo dell'opera è Sul regolamento dei mezzi di circolazione, ossia un esame dei principi sulla base dei quali si propone di restringere entro certi limiti stabiliti le future emissioni a credito della Banca d'Inghilterra e degli altri istituti bancari in tutto il paese. Ironico commento di Marx all'ingenua affermazione di Fullerton. Ci si chiede in ultimo perché l'oro può essere sostituito con semplici segni di se stesso, senza alcun proprio valore. Ora, come abbiamo notato, lo si può sostituire in questa maniera solo perché viene isolato o fatto indipendente nella sua funzione di moneta o mezzo di circolazione, ma il farsi indipendente di questa funzione non avviene veramente per le singole monete d'oro, sebbene esso appaia quando monete d'oro consumate continuano a circolare. Le monete d'oro sono semplici monete o mezzi di circolazione solo finché circolano effettivamente. Tuttavia, quel che non conta per la singola moneta d'oro conta per la massa minima d'oro che si può sostituire con la massa moneta. Questa s'aggira sempre nella sfera della circolazione, funge costantemente da mezzo di circolazione e perciò esiste solo in quanto depositare di questa funzione. Insomma, il suo movimento indica solo il continuo trasformarsi reciproco degli opposti processi della metamorfosi delle merci MDM. E in questo fenomeno la figura di valore della merce appare dinanzi alla merce solo per andarsene subito via di nuovo. Qui la rappresentazione indipendente del valore di scambio della merce è soltanto un momento transeunte. Essa viene a sua volta subito sostituita da un'altra merce. Perciò, in un processo che fa continuamente cambiare di mano al denaro, basta anche la sua esistenza meramente simbolica. In altre parole, il suo esistere come funzione assorbe il suo esistere come materia. Fugace riflesso oggettivato dei prezzi delle merci, esso ormai funge solo da segno di se stesso e può quindi essere sostituito con segni. Da tale fatto che l'oro e l'argento in quanto moneta, cioè nell'esclusiva funzione di mezzo di circolazione, divengono segni di se stessi, Nicholas Barbon ricava il diritto dei governi di accrescere il valore della moneta, cioè per esempio di dare a una certa quantità d'argento, chiamato grosso, il nome di una quantità più grande d'argento, come per esempio tallero, cosicché i creditori erano dati grossi al posto di talleri. Il denaro, in seguito ai suoi diversi spostamenti, si logora e diviene più leggero. La gente, nel commercio, tiene presente la denominazione e il corso, non la quantità d'argento. È solo l'autorità pubblica sul metallo a fare la moneta. Se al segno del denaro occorre una propria oggettiva validità sociale, il simbolo di carta la riceve tramite il suo corso forzoso. Tale azione coercitiva dello Stato vale solo entro una sfera di circolazione delimitata dai confini di una comunità, ossia interna. Ma d'altra parte, il denaro può adempiere completamente la funzione di mezzo di circolazione o moneta soltanto in quella sfera e può quindi avere nella carta moneta un genere di esistenza separato esternamente dalla sua materia di metallo e meramente funzionale. 3. Denaro Fino ad ora noi abbiamo esaminato il metallo pregiato sotto il duplice aspetto di misura del valore e di mezzo di circolazione. Esso adempia la prima funzione come moneta ideale, immaginaria. Esso si può rappresentare nella seconda tramite segni monetari, ma in alcune funzioni esso deve apparire nel suo corpo aureo o argenteo, cioè come merce e denaro, quindi né solo ideale come nella misura di valore, né rappresentabile come nel mezzo di circolazione. Esiste anche un'altra funzione cui può adempiere personalmente o tramite delegati, in cui esso appare di contro a tutte le altre merci quali puri valori d'uso, quale unica adeguata incarnazione del valore di scambio o come l'unica figura di valore. In tutti questi casi noi diciamo che esso funge da denaro in senso proprio in opposizione alle sue funzioni come misura del valore e come moneta. Questo capoverso è preso dall'edizione francese da Karl Kautsky. Nella prima, nella seconda e nell'edizione di Engels dice così La merce che funge da misura del valore e perciò anche di persona o per delega da mezzo di circolazione è denaro. Quindi l'oro, o l'argento, è denaro. Esso funziona come denaro da un lato quando deve apparire nella sua aurea o argente a corporeità personale, quindi come merce e denaro. Perciò né solo idealmente come nella misura del valore, né con la possibilità di essere rappresentato come nel mezzo di circolazione. D'altro lato, quando la sua funzione sia che la adempia di persona sia per mezzo di delegati, lo fissa quale unica figura di valore o unica adeguata incarnazione del valore di scambio, in confronto a tutte le altre merci quali semplici valori d'uso. A. Tesaurizzazione. Il movimento ciclico continuativo delle due opposte metamorfosi delle merci, vale a dire il continuo trasmutarsi di vendita in acquisto e di acquisto in vendita, appare nella infaticabile circolazione del denaro, cioè nella funzione del denaro di perpetuum mobile della circolazione. Cosa continuamente in movimento. Esso si immobilizza, ossia, come afferma Boagilbert, Pierre Lepesant de Boagilbert, 1646-1714, economista francese oppositore del mercantilismo e precursore della dottrina fisiocratica, fu avversario del Colbert. De mobile diviene immoble, mobile immobile. Da moneta diviene denaro, quando si interrompe la serie delle metamorfosi e la vendita non è rimpiazzata da un successivo acquisto. Col primo svilupparsi della circolazione delle merci, si sviluppa la necessità e il desiderio di fissare il prodotto della prima metamorfosi, la figura modificata della merce, vale a dire la sua crisale di aurea. Una ricchezza in denaro non è altro che ricchezza in prodotti convertiti in denaro. Mercier de la Rivière, L'Eau de Naturel, eccetera. Pagina 573. Un valore in prodotti ha solo cambiato di forma. Opera citata, pagina 486. Cioè si trattiene il denaro ricavato dalla vendita della propria merce, che invece nell'espressione MDM viene impiegato nell'acquisto di nuova merce. Il denaro così trattenuto viene definito tesoro. Schatz. Viene venduta della merce non per acquistare merce, ma per sostituire forma di merce con forma di denaro. Tale mutamento di forma, da semplice mediatore del ricambio organico, diviene fine a se stesso. Si impedisce alla forma alienata della merce di fungere da forma affatto alienabile della merce stessa. Cioè da forma di denaro che non deve far altro che dileguarsi. In tal maniera il denaro si pietrifica in tesoro e il venditore di merci diviene tesorizzatore. Propriamente agli inizi della circolazione delle merci solo il superfluo di valori d'uso viene cambiato in denaro. Così oro e argento divengono vere e proprie spiegazioni. espressioni sociali della sovrabbondanza, cioè della ricchezza. Questa ingenua maniera di tesorizzazione si eternizza tra i popoli la cui ristretta cerchia di esigenze corrisponde al modo di produzione tradizionale e volto all'appagamento dei bisogni individuali. Così si verifica tra i popoli asiatici e soprattutto presso gli indiani. Van der Lint, supponendo che i prezzi delle merci sono determinati dalla massa dell'oro e dell'argento che esiste in un paese, si domanda perché le merci indiane siano così a buon mercato. Risposta, perché gli indiani sotterrano il deraro. E aggiunge che dal 1602 al 1734 essi hanno sotterrato 150 milioni di lire sterlini in argento che in origine erano giunti in Europa dall'America. Con queste usanze essi mantengono a prezzi così bassi tutti i loro beni e i loro manufatti. Van der Lint, Money Answers, etc. Pagina 95-96. Dal 1856 al 1866, vale a dire in dieci anni, l'Inghilterra ha esportato in India e in Cina, il metallo esportato in Cina va a finire per la maggior parte in India, 120 milioni di lire sterlini in argento che precedentemente era scambiato con oro australiano. Con l'ulteriore sviluppo della produzione di merci, nessun produttore di merci può evitare di accaparrarsi il nervus rerum, il nervo delle cose, il pegno sociale. Il denaro è un pegno. Money is a page. John Bellers, 1654-1625, economista inglese. He say about the poor, manufacturers, trade, saggi sui poveri, le manifatture, il commercio, le piantagioni e l'immoralità. Londra, 1699, pagina 13. I suoi bisogni si rinnovano continuamente e richiedono un continuo acquisto di merci di altri, mentre invece la produzione e la vendita della sua merce costano tempo e dipendono da fatti occasionali. Per acquistare e senza vendere, egli deve aver prima venduto senza acquistare. Deve aver prima realizzato del denaro con cui pagare la merce ora acquistata. Tale operazione, effettuata su scala generale, pare che racchiuda un'intrinseca contraddizione. Tuttavia, i metalli pregiati sono scambiati direttamente alla loro sorgente di produzione con altre merci. Qui si verifica una vendita da parte del possessore di merci, senza acquisto, da parte del possessore d'oro e d'argento. In effetti, l'acquisto, nel suo significato categorico, presuppone già l'oro e l'argento come figura modificata della merce, cioè prodotto della vendita. E le altre vendite senza acquisti che le tengono dietro non fanno che mediare la successiva distribuzione dei metalli pregiati tra tutti i possessori di merci. In tal modo, su ogni punto del traffico sorgono tesori d'oro e d'argento e tesori d'argento nelle quantità più varie. La febbre dell'oro viene dalla possibilità di fissare la merci come valore di scambio o il valore di scambio con merce. Estendendosi la circolazione delle merci aumenta il potere del denaro, della forma sempre disponibile, a fatto sociale, della ricchezza. L'oro è una cosa meravigliosa. Chi lo possiede è padrone di tutto quello che desidera. Con l'oro si può perfino mandare le anime in paradiso. Cristoforo Colombo, lettera dalla Giamaica, 1503. Non potendoci accorgere del suo aspetto di cosa si sia trasformato in denaro, tutto, merce o non merce si trasforma in denaro. Tutto si può vendere o si può acquistare. La circolazione diviene la grande storta sociale dove tutto affluisce per uscirne di nuovo come cristallo del denaro. Nulla resiste a questa alchimia. Neppure le ossa dei santi e ancor meno altre meno rozze res sacrosantae extra commercium hominum. Il cristianissimo re di Francia Enrico III, Enrico III il re di Francia e di Polonia, 1551-1589, ruba ai monasteri, eccetera, le loro reliquie per mutarle in denaro. Si riconosce bene quanta importanza ha nella storia greca il saccheggio dei tesori del tempio di Delphi compiuto dai focesi. Si sa che presso gli antichi i tempi erano usati come dimora dal dio delle merci. I tempi erano banche sacre. Per i fenici, popolo di mercanti per eccellenza, il denaro era la trasfigurazione di tutte le cose. Quindi era naturale che le vergini che nelle feste della dea dell'amore si concedevano agli stranieri, offrissero in sacrificio ad essa la moneta avuta per ricompensa. Come nel denaro è eliminata ogni distinzione qualitativa delle merci, il denaro elimina a sua volta, leveler, radicale, livellatore, ogni distinzione. Oro? Giallo, luccicante, prezioso oro? Basterà un po' di questo per rendere nero il bianco, bello il brutto, dritto il torto, nobile il basso, giovane il vecchio, valoroso il codardo. O dèi, perché questo? Che è mai? O dèi, questo vi toglierà dal fianco i vostri preti e i vostri servi e strapperà l'origliere di sotto la testa dei malati ancora vigorosi. Questo schiavo giallo cucirà e romperà ogni fede, benedirà il maledetto e farà adorare la livida lebra, collocherà in alto il ladro e gli darà titoli, genuflessioni ed encomi sul banco dei senatori. È adesso che decide dell'esausta vedova sposarsi ancora. Orso dunque, maledetta mota, comune bagascia del genere umano. Shakespeare, timone d'Atene, atto quarto, scena terza, traduzione di Eugenio Montale. Ma anche il denaro è merce, un qualcosa d'esterno che può divenire proprietà privata di ciascuno. In tal maniera la potenza sociale diviene potenza privata dell'individuo. Per questo la società antica lo ritiene moneta sovversiva della sua organizzazione economica e politica. In verità, per l'uomo, nulla ha poteri così tristi e larghi come il denaro. Che città devasta, uomini strappa alle lor case. Istrutte le menti pure a concepire il male. Le perverte e le muta, ed il delitto indica il passo, e l'esperienza schiude da ogni impietà. Sofocle, Sofocle di Colono, tragediografo greco, 497-406 v.C. Antigone, versetti 374-381, traduzione di GNA, Lombardo Radice. La società moderna, che appena nata tira già per i capelli Plutone. Plutone, dio degli inferi, indicato, identificato con Pluto, dio della ricchezza, soprattutto della ricchezza dei metalli che si trovano nelle viscere della Terra. E lo trae fuori dalle viscere della Terra. E l'avarizia spera di trarre lo stesso Plutone dalle viscere della Terra, Ateneo de Epnosophistai. Saluta nell'Auro Graal, secondo le antiche leggende celtiche il Graal era il calice usato da Gesù nell'ultima cena, fonte di meravigliosi benefici per chi l'avesse ritrovato. La meravigliosa personificazione del suo più alto principio vitale. La merce, in quanto valore d'uso, soddisfa uno specifico bisogno e forma un particolare elemento della ricchezza materiale. Ma il valore della merce misura il grado della forza d'attrazione su ogni elemento della ricchezza materiale, perciò sulla ricchezza sociale del suo possessore. Il valore, per il possessore di merci, più o meno barbaro o anche per un contadino dell'Europa occidentale, è inscindibile dalla forma di valore, e di conseguenza un aumento del tesoro aureo o argenteo significa per lui un aumento di valore. Il valore del denaro certamente varia sia in seguito alle proprie variazioni di valori, sia in seguito alle variazioni di valori delle merci, ma ciò non impedisce che da un lato 200 once d'oro racchiudano, sia prima che poi, più valore di 100, 300 più di 200, eccetera, né che d'altro lato la naturale forma di metallo di questa cosa resti la forma generale di equivalente di tutte le merci, l'incarnazione direttamente sociale di tutto il lavoro umano. La tendenza alla tesorizzazione non ha per natura alcun limite. Il denaro è, qualitativamente, vale a dire secondo la sua forma, senza limiti. Esso, in altri termini, rappresenta generalmente la ricchezza materiale, dato che si può immediatamente convertire in ogni merce, ma ogni somma concreta di denaro è allo stesso tempo limitata quantitativamente e per questo è pure solo un mezzo d'acquisto di limitato potere. Questa contraddizione tra la limitazione quantitativa e l'illimitatezza qualitativa del denaro porta sempre il tesorizzatore al lavoro di Sissifo dell'accumulazione. A lui accade come al conquistatore del mondo, che la conquista di un nuovo paese significa solo la conquista di una nuova frontiera. Per trattenere l'oro come denaro e perciò come elemento della tesorizzazione, bisogna impedirgli di circolare, cioè di sciogliersi come mezzo d'acquisto in mezzi di consumo. Il tesorizzatore sacrifica dunque al feticcio oro i suoi piaceri della carne. Egli prende sul serio il vangelo della rinuncia. D'altro lato, egli può togliere in denaro dalla circolazione solo ciò che le dà i merci, perché il denaro si ricava solo dalla vendita di merci, di cui è l'espressione di valore. È da notare la maniera in cui Marx tratteggia la figura di tesorizzatore, con la consueta ironia che riserva i personaggi della società borghese. Tuttavia, con l'ulteriore svilupparsi di questa società, il tesorizzatore cede il posto ad altre figure più complesse, fino ad arrivare a quella del capitalista. Tanto più produce, tanto più può vendere. Le sue virtù cardinali sono quindi laboriosità, economia e avarizia, giacché la massima della sua economia politica è vendere poco, acquistare poco. Aumentare al massimo il numero dei venditori di ogni merce, diminuire al massimo il numero degli acquirenti. Su questi cardini girano tutte le operazioni di economia politica. Verri, meditazioni, eccetera. Pagina 52. Insieme alla immediata forma della tesorizzazione, ne esiste una estetica. Il possesso di oggetti d'oro e d'argento, che aumenta con la ricchezza della società civile. Siamo ricchi, o almeno sembriamo ricchi. Denis Didierot, 1713-1789, uno dei maggiori esponenti dell'illuminismo francese, ideatore e direttore della famosa enciclopedia, 1748. Si forma così da un lato un mercato sempre più vasto per l'oro e l'argento, indipendentemente dalle loro funzioni come denaro, dall'altro una sorgente latente d'affluenza del denaro, quello accumulato dai tesorizzatori, che scorre soprattutto in periodi di bufere sociali. Nell'economia della circolazione metallica, la tesorizzazione compie varie funzioni. La prima deriva dalle condizioni di circolazione della moneta aurea o argentea. Abbiamo osservato come la massa del denaro in circolazione sia costantemente fluttuante in relazione alle continue oscillazioni di volume, di prezzi e di velocità della circolazione delle merci. Essa quindi deve poter subire una contrazione o un'espansione. A volte bisogna immettere nella circolazione il denaro nella qualità di moneta. A volte bisogna cacciarne moneta nella qualità di denaro. Perché la massa di denaro effettivamente in circolazione possa corrispondere sempre al grado di saturazione della sfera di circolazione, occorre che la quantità d'oro o d'argento che esiste in un paese sia maggiore di quella impegnata nella funzione di moneta. Questa condizione è adempiuta tramite la forma di tesoro del denaro. Le riserve dei tesori servono allo stesso tempo come canale di afflusso e di deflusso del denaro che circola, che perciò non fa mai straripare i suoi canali di circolazione. Perché il commercio di ogni nazione vada avanti, occorre una determinata quantità di denaro che varia. E talora è maggiore, talora minore, come è richiesto nella situazione in cui siamo. Tali flussi e riflussi del denaro si aggiustano da soli senza alcun aiuto dei politici. I secchi si avvicendano del lavoro. Se il denaro è poco, si coniano i lingotti. Se mancano i lingotti, si fondono le monete. Sir D. North, Discourses upon Trade, pagina 22. John Stuart Mill, a lungo funzionario delle compagnie delle Indie orientali, conferma che in India gli ornamenti d'argento sono impiegati ancora oggi come tesoro. Gli ornamenti d'argento sono portati alla monetazione qualora vi sia un elevato saggio di interesse. Tornano indietro quando cade il saggio di interesse. Deposizione di Jason Mill, Relazioni sulle leggi bancarie, 1857, numero 2084. Secondo un documento parlamentare del 1864 sull'importazione e l'esportazione dell'ore dell'argento in India, nel 1863 l'importazione di ore di argento superò di 19.367.764 lire sterline l'esportazione. Negli otto anni precedenti, il 1864, l'eccedenza dell'importazione sull'esportazione dei metalli pregiati arrivò a 109.652.917.000 lire sterline. Nel corso di questo secolo sono state monetate in India molto più di 200 milioni di lire sterline. B. Mezzo di pagamento. Nella forma diretta della circolazione delle merci fin qui esaminata, la medesima grandezza di valore si presenta sempre due volte. Merce a un polo, denaro al polo contrario. Perciò i possessori di merci venivano in relazione solo come rappresentanti di equivalenti già esistenti e reciproci. Succede invece che, sviluppandosi la circolazione delle merci, ne derivano situazioni in cui la cessione della merce è separata nel tempo dalla realizzazione del suo prezzo, quello accumulato dai tesaurizzatori. Qui c'è sufficiente fare un cenno alle più semplici di tali situazioni. Un genere di merci richiede per essere prodotto un tempo maggiore, un altro un tempo minore. La produzione di merci diverse è in relazione a stagioni diverse. Una merce sorge sul suo mercato, un'altra deve recarsi presso un mercato distante. Perciò un possessore di merci si può presentare come venditore prima che l'altro si presenti come acquirente. Quando le stesse transazioni si rinnovano continuamente tra le medesime persone, le condizioni di vendita delle merci sono regolate a seconda delle loro condizioni di produzione. D'altra parte si può vendere per un lasso di tempo determinato l'uso di alcuni generi di merci, per esempio di una casa. L'acquirente ha effettivamente avuto il valore d'uso della merce soltanto quando scade il periodo d'affitto. egli l'acquista dunque prima di pagarla. Un possessore di merci vende merce presente. L'altro acquista come semplice rappresentante di denaro o come rappresentante di denaro futuro. Il venditore diviene creditore, l'acquirente diviene debitore. Dato che qui cambia la metamorfosi della merce, vale a dire lo sviluppo della sua forma di valore, anche il denaro riceve un'altra funzione. Esso diviene mezzo di pagamento. Lutero fa una distinzione tra il denaro come mezzo d'acquisto e il denaro come mezzo di pagamento. Facciamo dell'usuraio una coppia di gemelli perché qui non posso pagare e lì non posso acquistare. Martin Lutero, 1483-1545, iniziatore della riforma protestante, 1517. Ai parroci che facciano prediche contro l'usura. Wittenberg, 1540. Il carattere di creditore o quello di debitore deriva qui dalla circolazione semplice delle merci. Il mutamento delle sue forme imprime questi nuovi caratteri al venditore e all'acquirente. Dapprima, quindi, si tratta di parti transitorie e assolte alternativamente dagli stessi agenti della circolazione, come quella del venditore e dell'acquirente. Ma adesso l'opposizione ha acquisito, per natura, una sembianza meno ingenua e va soggetta a una maggiore solidificazione. A proposito dei rapporti tra debitore e creditore tra i commercianti inglesi al sorgere del secolo XVIII, qui in Inghilterra esiste tra i commercianti un tale spirito di crudeltà come non è dato trovare in alcun'altra società umana e in alcun altro paese del mondo. Un saggio sul credito e sulla legge di bancarotta. Londra, 1707, pagina 2. Questi stessi caratteri, però, possono apparire anche indipendentemente dalla circolazione delle merci. La lotta delle classi nel mondo antico si risolve, per esempio, soprattutto nella forma di una lotta tra creditore e debitore, e in Roma termina con la sconfitta del debitore plebeo che cede il posto allo schiavo. Nel Medioevo la lotta termina con la sconfitta del debitore feudale, che perde insieme alla base economica anche il suo potere politico. Eppure qui la forma di denaro e il rapporto tra creditore e debitore ha la forma di un rapporto di denaro. È solo il riflesso dell'antagonismo di più profonde condizioni di vita economiche. Ritorniamo alla sfera della circolazione delle merci. Non vi è più il simultaneo apparire degli equivalenti merci e denaro ai due estremi del processo di vendita. Adesso il denaro funge innanzitutto da misura di valore nella determinazione del prezzo della merce venduta. Il prezzo di quest'ultima stabilisce, come per contratto, la misura dell'obbligazione dell'acquirente, vale a dire la somma di denaro che egli deve sborsare a una data scadenza. In seconda istanza esso funge da mezzo ideale di acquisto. Sebbene esista soltanto nella premessa di denaro dell'acquirente, esso opera il cambiamento di mano delle merci. Il mezzo di pagamento si mette effettivamente nella circolazione, cioè passa dalla mano dell'acquirente a quella del venditore, soltanto quando scade il termine di pagamento. Il mezzo di circolazione era devenuto tesoro, in quanto il processo di circolazione si era interrotto alla prima fase, cioè in quanto si era sottratta dalla circolazione la figura trasformata della merce. Il mezzo di pagamento entra nella circolazione ma solo quando ne è uscita la merce, perché il denaro viene dato in pagamento solo quando è scaduto per esempio il termine dell'affitto della merce. Non è più il denaro che media il processo. Lo conclude, indipendentemente, come assoluto esister del valore di scambio o merce universale. Il venditore aveva trasformato merce in denaro per appagare tramite il denaro un bisogno. Il tesorizzatore per conservare la merce in forma di denaro. L'acquirente debitore per far fronte ai pagamenti. Qualora non pagasse si verificerebbero vendite imposte dei suoi beni. Perciò la figura di valore della merce, il denaro, diviene adesso fine a se stessa della vendita, per una necessità sociale che deriva dalle stesse condizioni del processo di produzione. L'acquirente, ancora prima di aver trasformato merce in denaro, riconverte il denaro in merce, vale a dire attua la seconda metamorfosi della merce precedentemente alla prima. La merce del venditore va in circolazione, eppure realizza il suo prezzo solo in un titolo di diritto privato sul denaro. Si trasforma in valore d'uso prima di essersi convertito in denaro. Solo più tardi si verifica la prima metamorfosi. Nota la seconda edizione, la seguente citazione, presa dal mio scritto pubblicato nel 1859, dimostrerà perché nel testo io non consideri affatto una forma opposta. Viceversa, nel processo DM il denaro può essere alienato come reale mezzo di acquisto, e il prezzo della merce essere in tal modo realizzato prima che sia realizzato il valore d'uso del denaro, o la merce sia alienata. Questo ha luogo per esempio nella forma comunissima del pagamento anticipato, oppure nella forma in cui il governo inglese compra l'oppio dei riots. I riots erano contadini soggetti a tributi d'origine feudale. In questo modo però il denaro agisce soltanto nella forma già nota del mezzo d'acquisto. Certamente il capitale è così anticipato anche sotto forma di denaro, ma a questo punto di vista non appare ancora l'orizzonte della circolazione semplice. Karl Marx, per la critica, eccetera. Pagine 119 e 120. Editori riuniti, 1957, pagina 123. Le obbligazioni scadute in ogni dato periodo del processo di circolazione rappresentano la somma dei prezzi delle merci, la cui vendita ha dato origine a quelle obbligazioni. La massa di denaro che occorre per realizzare questa somma dei prezzi dipende anzitutto dalla velocità di circolazione dei mezzi di pagamento. La regolano due circostanze. La concatenazione dei rapporti tra creditore e debitore in maniera che A, ricevuto il denaro dal suo debitore B, lo dà a sua volta al proprio creditore C, eccetera. E l'intervallo di tempo che separe diversi termini di pagamento. Il processo concatenato di pagamenti o prime metamorfosi supplementari è sostanzialmente distinto dall'interciarsi della serie di metamorfosi prima analizzato. La connessione tra venditori e acquirenti ha nel movimento del mezzo di circolazione qualcosa di più di una pura espressione. Anzi, questa connessione sorge addirittura nella e con la circolazione del denaro. Il movimento dei mezzi di pagamento sta a indicare invece un sociale compiuto e preesistente al movimento stesso. La simultaneità e la contiguità delle vendite limitano la sostituzione della massa di monete con la velocità della circolazione. Esse, del resto, formano una nuova leva nell'economia dei mezzi di pagamento. Concentrandosi i pagamenti, si sviluppano spontaneamente in uno stesso luogo istituzioni e metodi adatti alla loro compensazione. Tali erano per esempio i Virmont. Virmont è un termine in cui si fa uso nel commercio bancario per indicare il giro di partite contabili tra due clienti o tra due conti differenti di un medesimo cliente. Se noi confrontiamo i crediti di A verso B, di B verso C, di C verso A, eccetera, vediamo che essi, fino a una certa misura, si eliminano la vicenda come grandezze positive e grandezze negative. Così non resta altro che saldare un bilancio di dare e avere. Quanto più è grande la massa concentrata dei pagamenti, tanto più è relativamente piccolo il bilancio e perciò la massa dei mezzi di pagamento circolanti, in quanto questi pagamenti per lo più si annullano la vicenda. La funzione del denaro quale mezzo di pagamento comporta una diretta contraddizione. Finché i pagamenti si bilanciano, il denaro funge solo idealmente da denaro di conto, cioè da misura dei valori, ma quando si debbano effettuare reali pagamenti, il denaro non appare quale mezzo di circolazione, quale forma del ricambio organico che deve far solo da mediatrice e poi dileguarsi, ma appare quale individuale incarnazione del lavoro sociale, autonomo esistere del valore di scambio, merce assolute. Questa contraddizione balza fuori al momento delle crisi di produzione e delle crisi commerciali, che viene chiamato crisi monetaria. Si deve distinguere la crisi monetaria, come è definita nel testo quale particolare momento di ogni crisi generale di produzione e di commercio, da quello specifico genere di crisi, chiamata pure crisi monetaria, che si può presentare però per conto suo, così da manifestarsi solo di riflesso nell'industria e nel commercio. Queste crisi hanno il loro centro di movimento nel capitale denaro, perciò la loro diretta sfera è costituita dalla banca, dalla borsa, dalla finanza. Variazioni a mano di Marx della Notta 99, il manoscritto della seconda edizione che Engels ha ripreso nella terza edizione. Essa si verifica solo dove si sono completamente sviluppati il processo concatenato dei pagamenti e un artificiale sistema per la loro compensazione. Quando avvengono generali perturbamenti di tale meccanismo, qualunque sia la loro causa, il denaro si trasforma subito e senza transizioni da figura solo ideale della moneta di conto in denaro contante. Non si può più sostituire con merci profane. Il valore d'uso della merce è senza valore e il suo valore si dilegua dinnanzi alla propria forma di valore. Se era appena spenta in bocca al borghese, pieno di luministica albage derivategli dall'ebbrezza del benessere, l'affermazione che il denaro è vuota illusione, che ecco allargarsi il grido sul mercato mondiale. Solo il denaro è merce! Come il cervo s'avanza alla ricerca d'acqua fresca, così la sua anima invoca il denaro, l'unica ricchezza. Questo improvviso mutamento dal sistema di credito al sistema monetario aggiunge al panico pratico la paura teorica e gli agenti della circolazione restano sgomenti dinanzi all'impenetrabile mistero dei loro propri rapporti. Karl Marx per la critica eccetera, pagina 126. I poveri non hanno lavoro perché i ricchi non posseggono più denaro per la loro occupazione, sebbene essi continuino ad avere le stesse terre e gli stessi operai di prima per provvedere al nutrimento e ai vestiti. Queste cose, e non il denaro, costituiscono la vera ricchezza di una nazione. John Bellers, proposte per la creazione di un collegio industriale, Londra 1696, pagina 3. L'opposizione tra la merce e la sua figura di valore, il denaro, è spinta durante la crisi fino alla contraddizione assoluta. Per questo qui importa poco anche la forma fenomenica del denaro. Chi si debba pagare in oro o in moneta di credito, per esempio, in banconote, la carestia di denaro resta la stessa. Ecco in qual maniera questi momenti sono sfruttati dagli Amis du Commerce, Amici del commercio. Una volta, nel 1839, un vecchio taccagno banchiere della City, mentre era nel suo ufficio privato, sollevò il coperchio della scrivania alla quale sedeva e buttò dinanzi a un suo amico dei pacchi di banconote. Con profondo compiacimento affermò che erano 600.000 lire sterlire e che le aveva tenute nascoste per far scarseggiare il denaro e che sarebbero state tutte immesse nel traffico dopo le tre dello stesso giorno. La teoria dei cambi, la legge bancaria del 1844, Londra 1864, pagina 81. Il giornale semi ufficiale The Observer, nota al 24 aprile 1864, circolano delle voci molto strane sui metodi di cui si fa uso per provocare una scarsezza di banconote. Sebbene può apparire poco verosimile che si adoperino tale genere di trucchi, le notizie a tal proposito erano tanto diffuse che meritano veramente ad essere documentate. Esaminiamo adesso la somma totale del denaro che circola in un dato periodo. Determinata la velocità del movimento dei mezzi di circolazione e di pagamento, essa è uguale alla somma totale dei prezzi delle merci che si devono realizzare e a quella dei pagamenti giunti a scadenza, meno i pagamenti che si compensano a vicenda, e meno infine quel dato numero di cicli in cui la medesima moneta funge ora da mezzo di circolazione, ora da mezzo di pagamento. Il contadino per esempio vende il suo grano per 2 lire sterline, che così servono da mezzo di circolazione. Al termine della scadenza egli paga con esse la tela che gli ha dato il tessitore. Le medesime 2 lire sterline adesso servono da mezzo di pagamento. Ora il tessitore acquista per contanti una bibbia, le 2 lire sterline servono di nuovo da mezzo di circolazione, e così via. Perciò, pur essendo determinati i prezzi, velocità di circolazione del denaro ed economia dei pagamenti, non vengono più a coincidere la massa di denaro corrente durante un periodo, per esempio un giorno, e la massa delle merci che circolano. Causa i pagamenti a lunga scadenza di merci che pure sono state vendute, e quindi sono passati da una mano all'altra nella circolazione. Vede nella circolazione del denaro che rappresenta merci che da un pezzo se ne sono tolte. Circolano merci il cui equivalente in denaro si farà vedere solo in seguito. Del resto, i pagamenti contratti ogni giorno e quelli giunti a scadenza quel medesimo giorno sono grandezze affatto incommensurabili. La montare degli acquisti e delle vendite effettuate nel corso di un determinato giorno non avrà influenza sulla quantità di denaro che circola quel certo giorno, ma si risolverà nella maggior parte dei casi in diverse tratte sulla quantità di denaro che si potrà trovare in circolazione in date successive, più o meno lontane. Non è necessario che le cambiali ricevute oggi e i crediti aperti oggi abbiano una qualunque somiglianza, o per quantità, o per l'intero ammontare, o per la durata, con quelle che sono state ricevute e con quelli aperti per domani e postdomani. Anzi, un gran numero delle cambiali dei crediti di oggi finiscono per coincidere alla loro scadenza con una massa di obbligazioni le cui origini comprendono una serie di date anteriori affatto indeterminate. Spesso cambiali con 12, 6, 3 o un mese di corso si aggiungono alla massa dei pagamenti comuni di un determinato giorno. La teoria dei mezzi di circolazione, una lettera al popolo scozzese, da un banchiere inglese. Edimburgo, 1845, pagine 29 e 30, sezioni seguenti. Questo è evidente in quanto si tratta di pagamenti riferentisi a operazioni tra loro indipendenti e distanti nel tempo. La moneta di credito trae la sua diretta origine dalla funzione del denaro come mezzo di pagamento, giacché anche i certificati di debito per le merci vendute sono posti di nuovo in circolazione per la trasmissione dei crediti. Del resto, la funzione del denaro come mezzo di pagamento si sviluppa con l'estendersi del credito. Esso, come tale, ha assume proprie forme d'esistenza con cui si pone nelle sfere delle grandi transazioni commerciali, mentre invece la moneta d'ore ed argento viene ributtata specialmente nella sfera del piccolo commercio. Per mostrare con un esempio quanta poca moneta reale entri nelle vere e proprie operazioni commerciali, riportiamo qui il prospetto di una delle più importanti case commerciali di Londra, la Morrison-Dillon & Co., sulle sue entrate e i suoi pagamenti in denaro di un anno. Le transazioni della casa nell'anno 1856, comprendenti molti milioni di lire sterline, sono state ridotte alla scala di un milione. Relazione del Comitato Ristretto per le Legi Bancarie, luglio 1858. A un certo punto di intensità e di estensione della produzione delle merci, la funzione del denaro come mezzo di pagamento non si limita più alla sfera della circolazione delle merci. Esso diviene la merce generale dei contratti. Da che l'andamento del commercio è così cambiato, dallo scambio di beni con beni, cioè dare e ricevere, alla vendita a pagamento che si fa ora, tutti gli affari sono ora rappresentati come puri affari di denaro. D. Diffaut. Daniel Diffaut, 1660-1731, romanziere e autore del famoso libro La vita e le straordinarie avventure di Robinson Crusoe, 1719. Un saggio sul credito pubblico, terza edizione, Londra, 1710, pagina 8. Rendite, imposte, eccetera, si mutano da versamenti in natura in pagamenti in denaro. Il tentativo, per esempio, dell'impero romano, due volte andato a monte, di esigere tutti i tributi in denaro sta a dimostrare quanto questo mutamento dipende dalla figura complessiva del processo di produzione. L'immensa miseria della popolazione agricola nella Francia di Luigi XIV, Luigi XIV, 1638-1715, re di Francia dal 1643, denunciata con così grande eloquenza da Bois-Gilbert, dal maresciallo Vauban, eccetera, Sébastien Lepreur de Vauban, 1633-1607, ingegnere militare ed economista, organizzò una potente cintura di fortificazioni lungo le frontiere della Francia durante le guerre condotte da Luigi XIV. Venne nominato maresciallo di Francia nel 1703. Non dipendeva solo dall'elevatezza delle imposte, ma pure dal mutamento in imposta in denaro dell'imposta in natura. Il denaro è divenuto il carnefici di tutte le cose. La finanza è la storta che ha fatto svaporare una incredibile quantità di beni e di derrate per fare questo fatale riassunto. Il denaro dichiara guerra a tutto il genere umano. Bois-Gilbert, dissertazione sulla natura della ricchezza, del denaro e dei tributi. Edizione Dyer, Economist Financiers, in raccolta dei principi economisti, volume primo, Economisti finanziari del XVIII secolo, edizione Dyer, Parigi 1843, volume primo, pagine 413-417-419. Se del resto la forma naturale della rendita fondiaria, che in Asia è il più importante elemento dell'imposta statale, si basa lì su rapporti di produzione che si ripetono con la costanza dei fenomeni della natura, a sua volta questa maniera di pagamento mantiene di riflesso l'antica forma di produzione. Questo è poi uno dei segreti della conservazione dell'impero turco, qualora il commercio estero che l'Europa ha imposto al Giappone. Il primo trattato di commercio stipulato dal Giappone fu quello del 1858 con gli Stati Uniti, seguito poco dopo dai trattati con le maggiori potenze europee, aboliti nel 1863. Essi furono ripristinati a partire dal 1868 sotto l'imperatore Mutsuhito. Dovesse comportare la modificazione della rendita in natura in rendita in denaro, allora significherà la fine per l'agricoltura modello di quella nazione e scompariranno le misere condizioni economiche di vita che permettono il suo sussistere. In ogni paese si stabiliscono alcuni termini generali per i pagamenti, essi si basano in parte, non considerando altri cicli della riproduzione, sulle condizioni naturali della produzione che sono connesse al mutare delle stagioni. Essi regolano anche pagamenti che non derivano direttamente dalla circolazione delle merci, quali imposte, rendite, ecc. La massa di denaro che occorre in alcuni giorni dell'anno per tali pagamenti sparsi in ogni punto della società dà origine a perturbazioni periodiche, ma affatto superficiali nell'economia dei mezzi di pagamento. Il lunedì di Pentecoste del 1824, afferma il signor Craig alla commissione parlamentare di inchiesta del 1826, si verificò ad Edimburgo una così grande domanda di banconote che alle 11 non era rimasta più una banconote nelle nostre mani. Ci demmo da fare per averle in prestito dalle varie banche, ma non riuscimmo ad ottenerne e si poterono effettuare molte transazioni solo con pezzi di carta. Ma alle 3 del pomeriggio tutte le banconote erano state riportate alle banche dove erano uscite. Non verrà stato altro che un trasferimento da una mano all'altra. Sebbene la reale circolazione media di banconote in Scozia non arrivi ai 3 milioni di lire sterline, tuttavia alla scadenza dei vari termini di pagamento durante l'anno, ogni banconota che sia in possesso dei banchieri, in totale circa 7 milioni di lire sterline, viene chiamata in attività. In tali circostanze non hanno da compiere che una sola e determinata funzione e una volta compiuta ritornano alle rispettive banche d'onde sono uscite. John Fullerton, Regulation of Currencies, seconda edizione, Londra, 1845, pagina 86, nota. Sarà bene aggiungere per miglior comprensione che in Scozia, al tempo dello scritto del Fullerton, si usavano per i depositi solo le banconote e non gli assegni. Dalla legge sulla velocità della circolazione dei mezzi di pagamento deriva che per tutti i pagamenti periodici, quale ne sia l'origine, la massa dei mezzi di pagamento necessaria sia un rapporto diretto con la lunghezza dei periodi di pagamento. Alla domanda, se fosse necessario un giro di 40 milioni all'anno, sarebbero sufficienti i medesimi 6 milioni d'oro per le circolazioni e le evoluzioni di esse richieste dal commercio? Petty risponde con la sua consueta maestrea. Io rispondo di sì, per l'importo di 40 milioni, se le circolazioni fossero di cicli corti, per esempio settimanali, come si danno tra poveri artigiani e lavoratori, che riscuotono e pagano ogni sabato, allora adempierebbero allo scopo i 40-52esimi di un milione. Se invece i cicli fossero trimestrali, secondo la nostra usanza di pagare gli affitti e di riscuotere le imposte, allora vi sarebbe bisogno di 10 milioni. Perciò, ammettendo che generalmente i pagamenti abbiano un ciclo intermedio tra una settimana e 13 settimane, si aggiungono ai 40-52esimi 10 milioni, la cui metà sarà all'incirca 5 milioni e mezzo, in modo che, se abbiamo 5 milioni e mezzo, ne abbiamo a sufficienza. William Petty, Autonomia politica dell'Irlanda, 1672, edizione Londra, 1691, pagine 13-14. Lo sviluppo del denaro come mezzo di pagamento richiede delle accumulazioni di denaro per i termini di scadenza delle somme dovute, mentre col progresso della società borghese viene meno l'attesaurizzazione, intesa quale autonoma forma di arricchimento, essa, al contrario, aumenta, insieme ad esso, nella forma di fondi di riserva dei mezzi di pagamento. C. Denaro universale. Il denaro, sottraendosi alla sfera interna della circolazione, si spoglia di nuovo delle forme locali che vi sono sorte, di scala di misura dei prezzi, moneta, moneta divisionale, segno di valore, e riassume la originaria forma di lingotti di metalli pregiati. Nel commercio mondiale, le merci sviluppano i loro valori in maniera universale, perciò, naturalmente, la loro autonoma forma di valore appare qui dinanzi ad esse come denaro universale. Soltanto sul mercato mondiale, il denaro adempie completamente le funzioni di quelle merci la cui forma naturale è allo stesso tempo diretta forma sociale di concretizzazione del lavoro umano in abstracto. La sua maniera di esistere diviene adeguata all'idea. Nei rapporti di commercio tra una nazione e l'altra, il denaro, eliminate le particolarità dei suoi vari segni di valore, assume una forma universale e la quantità della sua materia aurea o argentea corrisponde direttamente al concetto da cui è sorto, quale espressione del lavoro umano sociale in esso rappresentato. Solo una merce può, nella sfera interna della circolazione, funzionare da misura di valore e perciò da denaro. Sul mercato mondiale regna una duplice misura di valore, l'oro e l'argento. Da questo deriva l'assurdità di ogni legislazione che prescriva alle banche nazionali di tesaurizzare solamente quel metallo pregiato che, all'interno del paese, ha la funzione di denaro. Ben si conoscono, per esempio, le graziose difficoltà che la banca d'Inghilterra, se così create da sola, sulle grandi epoche storiche del cambiamento relativo di valore dell'oro e dell'argento. Vedicar Marx per la critica, eccetera. Pagine 136, sezioni seguenti. Aggiunta la seconda edizione, nel suo Bank Act o Bank Charter Act, questa legge, nota anche come Peel Act, riveste una particolare importanza in quanto con essa venivano realizzate le misure finanziarie che la dottrina del Currency Principle, o principio monetario, aveva auspicato per bocca soprattutto di Air Torrance e di Sir J. Lloyd, in contrasto con le teorie del banking principale, o principio bancario, sostenute da T. Tukey, J. Wilson, J. Fullerton e J. Stuart Mill. Questi ultimi si mostravano propensi a una meno rigida regolamentazione dell'emissione dei biglietti da parte della banca d'Inghilterra, quale invece propugnavano i fautori del Currency Principle sulla scorta della concezione ricardiana secondo la quale il valore della moneta può mantenere la sua stabilità soltanto con la limitazione della quantità in cui viene messa in circolazione. Del 1844 Sir Robert Peel cercò di rimediare all'inconveniente, dando facoltà alla banca d'Inghilterra di emettere banconote contro lingotti d'argento, ma in maniera che la riserva d'argento non fosse mai maggiore di un quarto di quella dell'oro. In tale circostanza si calcola il valore dell'argento secondo il suo prezzo di mercato, in oro, sulla piazza di Londra. Aggiunta la quarta edizione, siamo di nuovo in un'epoca di forte cambiamento relativo di valore di oro e argento. 20 anni fa, circa, il rapporto di valore tra oro e argento era 15 e mezzo a 1. Ora è pressapoco uguale 22 a 1 e l'argento continua a calare in rapporto all'oro. Questo fenomeno è la sostanziale conseguenza di un rivolgimento della maniera di produzione dei due metalli. Prima si poteva avere l'oro solo tramite il lavaggio di strati auriferi alluvionali, causati dal frantumarsi atmosferico di rocce aurifere. Adesso questo metodo non basta più ed è passato in secondo piano rispetto alla lavorazione degli stessi filoni di quarza aurifero, sino ad allora fatta solo in secondo ordine. Sebbene era già conosciuta presso gli antichi, Diodoro, Diodoro Siculo, 80-20 a.C., scrisse una storia universale dalle origini sino al 59 a.C. Terzo, pagina 12-14. Del resto non solo si sono rinvenuti nuovi immensi giacimenti d'argento nel lato ovest delle montagne rocciose d'America, ma essi, insieme alle cave messicane d'argento, sono divenuti accessibili a mezzo di ferrovie, che hanno permesso l'importazione di macchine moderne e di combustibile, e con questo hanno dato la possibilità di ricavare argento su scala più grande e a costi più piccoli. Ma già nella maniera in cui si presentano i due metalli nei rispettivi filoni vè una grande differenza. L'oro generalmente è puro, ma è disperso nel quarzo in quantità piccolissime, perciò bisogna macinare l'intera vena ed estrarne l'oro con un lavaggio o per mezzo nel mercurio. E sovente, da un milione di grammi di quarzo, si ricavano solo da 1 a 3 e, molto raramente, da 30 a 60 grammi d'oro. L'argento si presenta assai di rado allo stato puro, ma generalmente in suoi propri minerali, che si possono staccare dal filone con relativa facilità e che racchiudono in genere dal 40 al 90% d'argento. Oppure si presenta in piccole quantità, ma racchiuso in minerali di rame, di piombo, eccetera, che già per se stessi devono essere sottoposti a lavorazione. Già da questo si può dedurre che, mentre il lavoro per la produzione dell'oro è alquanto aumentato, quello per la produzione d'argento è nettamente diminuito e che quindi si può spiegare in maniera affatto naturale la caduta del suo valore. Quest'ultima si potrebbe esprimere in una caduta ancora più grande del prezzo se il prezzo dell'argento non fosse tenuto alto anche oggi, con mezzi artificiali. Ma i depositi d'argento dell'America sono stati resi accessibili solo in piccola parte e così v'è molta probabilità che il valore dell'argento si mantenga basso ancora per molto. A questo dovrà per forza contribuire anche la relativa diminuzione del fabbisogno d'argento per articoli di uso e di lusso, la sostituzione dell'argento a mezzi di metalli placcati con alluminio eccetera. E con questi dati si valuti l'utopismo dell'idea bimetallica secondo cui un corso forzoso internazionale potrebbe far tornare l'argento al vecchio rapporto di valore di 1 a 15,5. Invece può benissimo darsi che l'argento, anche sul mercato mondiale, perderà sempre di più la sua funzione di denaro. Frederick Engels Il denaro universale funge da mezzo generale di pagamento, da mezzo generale d'acquisto e da materializzazione del tutto sociale della ricchezza in genere, universal wealth. Quando si devono compensare i bilanci internazionali, predomina la funzione di mezzo di pagamento. Di qui la parola d'ordine del sistema mercantilistico, bilancia del commercio. Gli avversari del sistema mercantilistico, che ritiene come scopo del commercio mondiale il saldo in oro o in argento dell'eccedenza di una bilancia del commercio, hanno interamente disconosciuto per loro conto la funzione del denaro universale. La erronea concezione delle leggi che regolano la massa dei mezzi di circolazione, come sull'esempio di Riccardo, o già dimostrato nei dettagli, per la critica a pagina 150 a sezioni seguenti, non fa che riflettersi nella erronea concezione del movimento internazionale dei metalli pregiati. L'errato dogma di Riccardo, una bilancia del commercio sfavorevole deriva solamente da un'eccedenza di moneta circolante, l'esportazione della moneta trova spiegazioni nel suo buon mercato e non è l'effetto, ma la causa di una bilancia sfavorevole. Si trova quindi già in Barbon, la bilancia del commercio, se ne esiste una, non è la causa dell'esportazione del denaro da una nazione, ma questa esportazione deriva dalla differenza del valore del metallo pregiato in lingotti in ogni nazione. Ann Barbon, A Discourse Concerning Coining, etc., pagina 59-60. McCulloch, John Ramsey McCulloch, 1719-1864, economista inglese divulgatore dell'economia classica e convinto assertore della teoria del fondo salari, l'intero titolo dell'opera qui citata è La letteratura dell'economia politica, catalogo sistematico di una scelta di pubblicazione dei diversi rami di questa scienza. In La letteratura dell'economia politica, catalogo sistematico, Londra 1845, l'ho da Barbon per questa anticipazione, ma evita prudentemente di fare un solo cenno alle ingenue forme sotto cui si presentano ancora nel Barbon le assurde ipotesi sul currency principle. La pochezza critica e pure la malafede di quel catalogo hanno il loro culmine nelle sezioni sulla storia della teoria del denaro, perché qui McCulloch dimena la coda da bravo sicofanti di Lord Overstone, l'ex banchiere Lloyd, che egli appella abile principe dei banchieri. L'oro e l'argento fungono in sostanza da mezzo d'acquisto internazionale ogni volta che viene scosso improvvisamente il normale equilibrio del ricambio organico tra diverse nazioni. Fungono in ultimo da materializzazione del tutto sociale della ricchezza, quando non c'entra né la vendita né l'acquisto, ma il trasferimento della ricchezza da un paese all'altro e quando questo trasferimento sotto forma di merci è impedito sia dalla congiuntura del mercato delle merci, sia dallo scopo stesso che si deve raggiungere. Per esempio nel caso di sussidi, prestiti in denaro per la guerra o per la ripresa del pagamento in contanti delle banche, eccetera, si può esigere il valore proprio in forma di denaro. Come per la sua circolazione interna, così per la circolazione sul mercato mondiale ogni paese necessita di un fondo di riserva. Le funzioni dei tesori derivano quindi in parte dalla funzione del denaro come mezzo interno di circolazione e di pagamento. In parte dalla sua funzione come denaro universale. Nota la seconda edizione, non si può certo desiderare prova più convincente delle attitudini che al meccanismo della tesorizzazione nei paesi che pagano in metalli, di assolvere ogni necessario compito di compensazione internazionale, quanto la facilità con cui la Francia, che si stava appena risollevando dalla scossa di una devastatrice invasione straniera, saldò nel giro di 27 mesi il pagamento alle potenze alleate di circa 20 milioni che le era stato imposto e diede la maggior parte delle somme in metalli, senza sensibili contrazioni o turbamenti del corso del denaro all'interno e senza neanche fluttuazioni preoccupanti dei suoi scambi. Fullerton, Regulation of Currency, pagina 191. Nota la quarta edizione, abbiamo un esempio ancora più convincente nella facilità con cui la stessa Francia, nel 1871-1873, in seguito alla sconfitta subita nella guerra franco-prussiana, fu capace di saldare in 30 mesi una indennità di guerra maggiore più di 10 volte e anche questa massima parte in moneta metallica. Per quest'ultima parte si richiede sempre la merce e denaro reale, oro e argento, in carne ed ossa. Per questo motivo James Stewart disegna particolarmente l'oro e l'argento, a differenza dei loro rappresentanti meramente locali, come money of the world, moneta universale. Il movimento della corrente dell'oro e dell'argento è duplice. Da un lato, partendo dalle sue esorgenti, si spande su tutto il mercato mondiale, dove lo trattengono in diversa misura le varie sfere nazionali di circolazione, affinché possa penetrare nei loro canali interni di circolazione, prendere il posto di monete auree, argente e logore, fornire il materiale per oggetti di lusso e consolidarsi nei tesori. Il denaro si spartisce tra le nazioni relativamente al bisogno che esse ne hanno, poiché è sempre attirato dai prodotti. Le trozne dell'Internet Social, pagina 916 Le miniere che danno in continuazione oro e argento ne danno quanto basta per generare un tale equilibrio necessario ad ogni nazione. Jay Vanderlint, Money Answers, eccetera, pagina 40 Questo primo movimento è mediato dal diretto scambio tra i lavori nazionali concretatisi in merci e il lavoro realizzato in metalli pregiati dei paesi che producono oro e argento. D'altro lato, l'oro e l'argento scorrono in continuazione da una parte e dall'altra tra le diverse sfere di circolazione nazionale e questo movimento segue le perenne oscillazioni del corso dei cambi. I cambi salgono e calano ogni settimana, in certi particolari momenti dell'anno salgono in alto, a danno di una nazione, e in altri momenti salgono altrettanto in suo favore. And Barbon a discourse concerning coining, eccetera, pagina 39 I paesi in cui la produzione borghese è sviluppata riducono al minimo voluto dalle proprie funzioni i tesori ammassati nei serbatoi delle banche. Queste diverse funzioni possono addivenire a un pericoloso conflitto, quando vi si unisca la funzione di un fondo di conversione per banconote. A parte alcuni casi, il fatto che i serbatoi di tesori siano ripieni in modo rilevante al di sopra del loro livello medio è un indizio del ristagno della circolazione delle merci o di una interruzione del flusso delle metamorfosi delle merci. Tutto il denaro che supera lo stretto necessario del commercio interno è capitale morto e non reca alcun profitto al paese in cui esse è conservato, a meno che lo si adoperi nel commercio di esportazione o di importazione. John Bellers, E-Safe, eccetera, pagina 12 Che si deve fare se abbiamo troppo denaro monetato? Possiamo fondere il più pesante e trasformarlo nella magnificenza dei piatti, del vasellame o degli utensili d'oro e d'argento, oppure possiamo esportarlo come merci dove ve ne sia necessità o desiderio o prestarlo a interesse, dove questo è alto. W. Petty, Quantunum Conque, eccetera, pagina 39 Il denaro è solo il grasso del corpo politico e l'averne troppo diminuisce l'agilità, come l'averne poco rende malati. Come il grasso lubrifica il moto dei muscoli, sfama in mancanza di cibo, colma le cavità irregolari e fabella il corpo, così il denaro nello Stato ne sveltisce l'azione, lo nutre dall'esterno in periodi di carestia e in patria, regola i conti, fabella ogni cosa e specialmente le singole persone che lo possiedono in abbondanza. W. Petty, Political Anatomy of Ireland, pagina 14